buon dì un saluto di fogna a tutti e benvenuti in teoria di va bene carino va boys mi è piaciuto intanto voglio ringraziare un eurismone per il sub ringraziamo sì grazie per il sub ciao mister bella ciao a tutti soprattutto grazie a neurismone ma grazie anche a ciccio 97 con la sua pura presenza perché ci onora del suo odio siamo riusciti ad andare in live ma purtroppo c'è sempre il problema del reale oggi tra l'altro esatto oggi è una puntata speciale perché praticamente torre di va bene è un programma che si occupa diciamo dei fail della letteratura europea no faccio una mosa queste cose faccio il rassunto del velocissimo delle scorse puntate praticamente eravamo partiti dalla crisi della letteratura latina che arriva appunto con giulio cesare che deve scrivere un libro e fa che bello il gallico per dire proprio la mia lingua fa cagare no e poi praticamente abbiamo trattato due puntate fa la puntata scorsa abbiamo trattato il fail della letteratura non rena che arriva appunto questo autore snorri che ha scritto un libro che non riusciva a scrivere alla fine l'ha chiamato e dai cioè tipo le dai di esatto e oggi praticamente la puntata di oggi sarà appunto sul nostro amico sul nostro fan leopardi che ci segue sempre che praticamente nel momento ripeto comunque se ci segue da youtube da youtube perché lavora ma infatti l'ultimo lavoro non riusciva più a scrivere poesie appunto il programma sulla crisi della letteratura quindi parleremo del suo manuale di fitness lo zumba zumbaldone che è praticamente dove illustra tutti i libri lo zumbaldone è bellissimo però però penso che prima giocheremo un pochino ok saluto tutti vediamo un pochino perfetto siete tanti oggi bello mi piace perché sono contento perché questa mini maratona e mi sono contento perché ci tengo e ci teniamo tanto a portare little nightmare finalmente che è un capolavoro e già sappiamo il voto finale di little nightmare quale sarà però portarlo finalmente tutto a maratona è un gioco anche corto però fa vedere una perla scusate che cosa è successo? sì no guarda sono live no no passo io passo no no passo io no 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 guarda spazzo la spazzo la tranquillo perché poi non no ok va bene dai torre va bene torre di va bene va bene dai ciao ci sentiamo dopo ciao 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 scusate vabbè ciao professionalità ma rispondiamo pure al telefono in live eh no perché scusate mi stava chiamando Carlotta che era in ritardo e la nostra regista e infatti quindi in ritardo e mi ha detto di passare là però io non passo là perfetto allora diciamo sì appunto grazie ma chi è? ma è spazza ma che cosa sta succedendo? siamo contenti che ci siete sempre perché apprezziamo il fatto che nelle puntate official dove parliamo un botto della nostra vita e dei nostri ricordi allora poi quando facciamo i gaming che la gente arriva e dice ah grazie mi subo e infatti grazie del supporto per non sentirci parlare oggi cercheremo di parlare il meno possibile uno scorregerà come al suo solito scusa 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 ma no non è possibile io me ne vado ma non si può lavorare così no guarda guarda ho parlato adesso con Carlotta no 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 vabbè si fa un po' caldo ma alti e bassi guarda non ti preoccupare alti e bassi va bene dai no guarda ti richiamo io tra un secondo aspetta aspetta adesso si eccomi no lo so fa caldo te l'ho detto eh lo so bassi e alti bassi e alti va bene dai ci sentiamo dopo che ora sono live ciao mettiamo lo lascio così eh va bene ciao lo lascio così poiché Little Nightmares sono Lightmares allora faccio pure io una chiamata vai fai una chiamata ti voglio vedere va vai col telefono è facile tutti fanno la chiamata col telefono pronto carabinieri ci vorrei segnare il granpuno grazie restate va bene allora mamma mia ma che cosa è successo uh ma quello è il polpo di cui Shannon l'ha visto è Norismone devi farlo assolutamente vedere Norismone presentiamo un nostro un nostro grande supporto per la trasmissione alti e bassi lui è bassi e lui è alti e a seconda se abbiamo il ciclo ci distocciamo da qualsiasi cosa che posso vedere però in realtà perché l'abbiamo comprato per errore cioè non sapevamo questa lore dietro rispetto al ciclo eccetera ma semplicemente ci sembrava carinissimo il colore viene un po' bruciato in live dalla telecamera ma in realtà è rosa e giù è verde ed è meraviglioso e quindi alti e bassi o bassi e alti oggi lo lascerei in bassi anche perché da un po' mi piace anche usarlo come cappello oggi è scatenato ragazzi il problema che però ha visto il film The Father dove Anthony Hopkins ha la demenza e ora di colpo sei rincoglionito va bene dai 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 no vabbè allora stavo dicendo sì comunque si trovano su Wish si chiamano se lo volete cercare è una serie si chiamano Reversible Plushies e ci sono vari tipi una comunicazione di servizio così tipo i pochi aspettatori che abbiamo li perdiamo siccome c'è stato nooo infatti grazie ma perché sono così attivi? ma il pubblico molto solido con l'atmosfera lucubre grazie buffo no praticamente c'è stato anche un nostro spettatore amico che ha cercato di disubbarsi quindi siccome tipo ci sono stati vari problemi tecnici mi levo sta cosa che può essere utile spiego al volo come ci si anzi no non lo dico neanche anzi no non lo spiego allora no perché c'ho le slide praticamente cercherò di fare un repirigo velocissimo di come funziona il sub con Prime allora scusatemi andiamo in diapositive non c'è un cazzo diapositive allora praticamente se volete supportare Torri di Va Bene in maniera totalmente gratuita e avete Amazon Prime potete andare nella nostra pagina in realtà ci sono mille metodi ma dico quello che so questo appunto il maiale importante che vedete sempre se c'è il maiale che fa oink vuol dire che il tutorial è giusto che sta andando nella direzione giusta e praticamente cliccate su abbonamento noi qua abbiamo regalo abbonamento ma voi avrete abbonati o una cosa del genere e andando praticamente in questo pulsante vi aprirà una sorta di finestrella dove ci sono i vari abbonamenti a pagamento quelli classici in basso troverete questa opzione abbonamento regalo con Prime e dovete proprio cliccare qui su iscriviti senza costi aggiuntivi se il vostro Twitch è già sincronizzato con vostro Amazon Prime avete finito se invece c'è qualche problema nel senso che vedete che non va vuol dire che non avete mai sincronizzato il vostro Twitch con Amazon e quindi andate su Prime Gaming potete scriverlo direttamente su Google insomma o ve lo dà proprio da qui ulteriori dettagli cliccate e vi apre direttamente questa schermata di Prime Gaming andate su Prime Gaming qua c'è ciao tizio e poi c'è gestisce account Twitch cliccate qua non gestisce account tizio no gestisce account Twitch cliccate su sincronizza controllare collega o scollega account quindi qua se vuol dire che non ve lo fa fare vuol dire che non l'avete collegato lo collegate qui e ritornate indietro quindi ritornate di nuovo qua vi comparirà perfetto quindi questo perché Trash Trash Shaolin aveva provato a subarsi e non ce l'aveva non ce l'aveva fatta porca troia ok quindi piccola spiegazione grazie a tutti del supporto e dei sub che già abbiamo allora allora io partire Boomerallert vabbè Prime Gaming effettivamente no porca puttana io me ne vado aspetta aspetta perché l'antenna non prende bene non ce la faccio cioè io mi sono sviato alle 8 per liberare l'hard disk esterno lui arriva non fa un cazzo e la gente ama lui no ma che ci fanno le minacce io non faccio mani i carabinieri ma non può eh guarda che abbiamo non tazza non tazza a dare non tazza non tazza ho fatto pinta non so come si può chiudere l'antenna che non esiste dai iniziamo a giocare che mi piace oggi dai sono un cazzeggio oggi mi va va bene dunque allora io avvierei Little Nightmare quindi Little Nightmare vado? ah si è già aperto è già aperto tutto mezzo cringe ha pure tutto cringe si quindi vogliamo giocare a questo capolavoro del 2017 2016 forse 2017 io pure ricordo quello però ragazzi fateci sapere chi ha ragione e quindi tipo ci sono vai 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 prego cambio cena ok Little Nightmare allora tendenzialmente noi dal computer la dovremmo aver messo in modalità ULTRA cioè che tipo Hey John ULTRA Hey John ULTRA quindi direnzialmente però forse voi lo vedrete io vorrei se ci fate sapere tra un attimo adesso ancora non c'è però adesso mettiamo ah l'audio voi dovrebbe partire l'audio difatti noi adesso sentiamo l'audio fateci sapere se sentite bene l'audio se sentite bene il il PUNO il PUNO se sentite bene qualcuno ma sai che ti volevo dire? ma lo sai che ti avevano ti hanno copiato Liga Bue giovanotti che stavo mettendo in tv e c'erano loro che avevano fatto le canzoni che facevano il mio nome è GRANPU 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 no cioè ti giuro ma lo sai vuoi chiedere i diritti allora ragazzi penso che li chiederò storti più che i diritti almeno la musica non so i suoni penso sì almeno la musica non so i suoni anche i livelli sono buoni quindi si sente bene allora ragazzi praticamente noi adesso facciamo che si sente la voce ma si riesca a sentire la musica contrariamente a Ghost & Goblins la musica e gli effetti sonori qua sono molto più opachi non so come dirlo molto più soffusi facciamo una cosa praticamente noi facciamo una nuova partita ora diciamo che Little Nightmare cioè il gioco principale e poi ne abbiamo pure preso i DLC che sono praticamente con un altro personaggio non sappiamo se oggi riusciremo a giocare però per chi si chiede se ci sono DLC Little Nightmare si ci sono e si trovano poi qua da selezione di capitolo sono tre episodi di DLC quindi vedremo se non li portiamo oggi li porteremo un'altra volta però sicuramente abbiamo preso la full edition sia del primo che del secondo vai nuova partita ciao saluto di Fogna ah giochiamo oggi Little Nightmare effettiva io pensavo che oggi facciamo solo la presentazione ah è finita così vabbè ragazzi se vi va allora giochiamo pure scusatemi pensavo che oggi era così va bene maratona nuova partita c'è di salvataggio no no vuoto ovviamente avevo fatto un test di 15 minuti per vedere se funzionava qualcuno di me nella chat ha mai giocato a Warcraft 3 io ho giocato ah nella chat io non conto sì io ho giocato a Warcraft 3 avevo 9 anni un test di 15 minuti Quindi avete visto C'è questa scena C'è una strana signora Sembra Non si capisce bene la faccia Ma Gerra hai visto su Steam Allora ragazzi Lei in Little Nightmare Si chiama Six Non ho neanche detto sia una bambina Vedete che c'ha L'atmosfera è tutta ombre Si chiama infatti piccoli incubi Tutto scuro ed esce Facciamo notare che esce da una valigia Che è bellissima sta scena che non tornerà più Quindi iniziamo da questa valigia Guardate che figo l'accappatoio Giallo L'accappatoio sarebbe l'impermeabile Eh no no quella non è pioggia È una doccia Vabbè scusate lo spoiler poi si scopre a livello 3 Steam Nada Anche un sito ok Allora iniziamo Scusatemi ma era tipo una vita che non lo giocavo E questa scena della valigia Guardate che sono belle Le I cerchi di acqua Per l'effetto dell'acqua qua Guarda come è già storta la gam Nella play si vede molto più di merda Io l'ho giocato nella play Ma tu sei vivo la vedi? Si si Sei sicuro che lo vedi bene? Aspetta ci dovrebbe essere in questo gioco la possibilità di fare luce E si con l'accendino Eccolo qua Sentite questi rumori Eh Quindi così salto X Con cerchio faccio l'accendino E poi mi pare che c'è un tasto I comandi sono molto semplici nel gioco Per prendere le cose No c'è anche il tasto per squisciare Ok vediamo un attimo Con questo qua di Accovacci Ok L2 Si deve essere sicuramente qualche tasto per pigliare le cose Se è un gioco No c'è anche se tu corri puoi fare la scivolata Con L1 o R1 o R2 Come si corre? Così No Non sto facendo niente Accendi la cosa Intanto Cerchiamo di Per accendere devi solo avvicinarti Stiamo cercando ragazzi Sto cercando Soltanto di ricordarmi i comandi Perdonatemi Ecco Allora quadrato si corre E qua bisognerebbe praticamente afferrare Con Di angolo? No 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 X X salti Quadrato Con L'opposto Mentre quello di Accovacci Con questo pigli Quasi devo Accovacci Praticamente Questo gioco Molti lo definiscono un puzzle game Però in realtà Non è un puzzle game Nel senso che ci sono dei rompicapo Però È tendenzialmente un gioco di avventura E E Tendenzialmente È un Ci sono Combina delle cose puzzle Con delle cose survival Con delle cose tipo di fuga Eccetera Delle meccaniche tutte sue Adesso lo scopriremo insieme Vedete che bello questo tunnel Si può agire in profondità E la cam guardate questo cambio Guardate le catene gigante dietro Uno Il censore Guardate che meraviglia Se voi cercate di interpretare questa atmosfera L'atmosfera è veramente Cioè l'atmosfera è tutto il gioco Cioè uno può dare varie spiegazioni Allora là c'è una statuetta Queste statuette Se giocate Little Nightmare Noi cerchiamo sempre di prenderle Non hanno un senso che va secondo me Al di là No 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 È pure un niente Però magari se ci giocate Che cazzo ne so In una console per dire Vi dai trofei Guardate che bello il pavimento bagnato La scopa Come riflette la luce sull'acqua È una cosa Il punto diciamo di capire Ah ma Magari le persone tipo che amano il reale Tutte le razioni Diciamo Ma che cos'è Che atmosfera è Un incubo E la realtà Cosa è Questo è un gioco che non fa per voi Se vi piace il reale Nel senso che Cioè l'atmosfera di Little Nightmare È talmente misteriosa È indecifrabile La porta succede qualcosa Non ti è riperso qualcosa? È indecifrabile C'è una trap door Dove? Da sollevare Lì a sinistra Però non so se si può sollevare Non mi pare Esci L'atmosfera è Unica Questa 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 Ti può spostare Mi sa Cioè te la fa afferrare Però è troppo pesante Guarda Cioè io la afferro No? Però poi non va Sento la vibrazione Altra stanza Prima? Ancora prima No no Non mi pare Ovviamente sì Sembra Ci sono queste cose che sporgono Quindi potrebbe sembrare Però in realtà Non è che ci siano tante cose Oggetti o cose di questo tipo È semplicemente Io me lo ricordo Io ho giocato un annetto e mezzo fa O forse un po' Un annetto e qualcosa fa Però me lo ricordo abbastanza bene Devo dire Le meccaniche Che ci stanno di mezzo Mi sa che qui devi Ah ok Difatti c'è un delay Difatti Chi devi spostare Non devo andare Ah 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 Vabbè Vi dico dopo Della atmosfera del gioco Perché per ora è meglio Solo guardare Guardate quest'uomo impiccato Commenta tu Commenta tu Guardate quest'uomo impiccato Intanto guardate le pantofole La cartigenica Che puoi anche prendere La cartigenica Mi sa forse che la devi pure prendere Perché devi prendere la sedia pure Ora che mi ricordo Qualcuno è reale Sì devo prendere la sedia Guarda la camera un attimo più in alto Risposta Eccolo Per far vedere Guardate tra l'altro Guardate le dimensioni Esatto La differenza di dimensioni Tra six E questo cosa Questa specie di orologio Di cosa di legno Di sedia Oblunga Tutta deformata Tutta scorta C'è lo scopo diciamo L'atmosfera Ricorda molto quello che dicevamo ieri Sul lince C'è sicuramente uno stile onirico Uno stile appunto Di incubo Però in realtà Non è così Nel senso che poi Vedremo Che in realtà Il mondo ha un suo senso Una sua coerenza Devo fare così Per arrivare Alla manopola Eh ma devi stare Deve essere di lato Sì Sto regolando un attimo Magari io adesso cercherò Guardate le ombre che belle che sono Parlerò di meno Per giocare Parlerò il Gramp 1 Quando il Gramp 1 gioco Parlerò più io Occhio qua che ci sono i vermoni neri Ah questa In realtà Dico che parla di meno Ma in realtà rompo il cazzo Vedete questa sostanza nera È molto presente Little Nightmare È una specie di cosa Che tornerà spesso Se tu ci passi sopra Non ti fa male Eh però ti rallenta Il movimento No in realtà Poi ti fa male Perché ci sono delle sorte Di sanguisughe Ah hai liberato un nomino Qui avete visto Scappare un qualche cosa Lì In realtà Quello c'è una lore Che lo spiega la DLC Io non farò spoiler Però Si chiamano nomini In realtà Se poi vi dovesse interessare Se voi andate sul sito Della Bandai Namco Eh Ci sta proprio Il sito Eh La pagina dedicata A Little Nightmare Dove avete Le schede Di tutti i personaggi Chi sono Cosa si sa Dei personaggi Eh Stacol Io ti ho pensato Secondo me Ti sarebbe piaciuto Un botto A sto gioco Ed è il bello Di giocarlo tutto Perché Gli ambienti Continuano a variare Ma si continua A stare in questa cosa Ed è sempre più agghiacciante Tendenzialmente Questi sono i nomini Questi sono i nomini Sono delle specie Di piccoli gnomi Che ti assistono Grosso modo Poi non diciamo Però A livello di gameplay Sono Non sono Non devete fuggire Sono Sono sciagli Guardate come si sta riscaldando Il fuoco Il nomino E salvarli Adesso per esempio Noi abbiamo sbloccato Questo coppaccio Deve abbracciarlo Deve abbracciarlo Quando abbracci i nomini I nomini ti iniziano a seguire Devi tornare indietro E farti aiutare dal nomino Mi sa che Qua con Six Cioè In genere si Però qua con Six In questo punto Mi sa che non ci aiuterà No perché Qua si va avanti Da qui Sai Eh Però piccati Qui se non vado errato Cati Ecco Corri 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 Intanto una cosa bella È proprio questa struttura Io amo molto i survival Perché Io ho sempre Una fottuta paura dei mob In qualsiasi gioco Che io faccia Non sopporto andare contro i mob E non vedo perché li debba uccidere Perché loro debbano uccidere me Di conseguenza Io anche negli altri giochi Scappo E preferisco fare Dei percorsi assurdi I survival Hanno esattamente Quest'idea Per cui mi trovo perfettamente A mio faccio A priori Perché sono pensato In cui l'unica cosa Che può fare Six Occhio al vermone Cioè è realistico In un certo senso Per quanto sia Un'atmosfera onirica Perché lei Sembra Minuta Sembra Non è un fighter Non è Kratos E quindi comunque ci sta Quanto sarebbe trash Se lei iniziasse a combattere Con una spada GS20 No? Quindi in realtà Ecco Dà coesione al gioco Il fatto del survival Lo che si può fare È muovere oggetti Accendere la luce Lo zippo E basta Per ora L'impressione L'impressione che ho Giocando Fino a questo momento È come che Eh ma tanto è obbligato Sì sì lo so E tra qui corri Corri Sto correndo Ma quando sei nel nero Qua regà Potrei morire Per la prima volta Esatto Queste sono le famose Sanguisughe Che ti pigliano E ti strozzano L'impressione che ho Siccome lei si sveglia È come una sorta di escape È come se lei dovesse fuggire Quindi comunque Hai una dimensione Di survival Ma anche tipo Di fuga ad Alcatraz Tra Kratos e Six La vedo malissimo Ah ce l'ho qua Sì Bisogna andare a quella porta là Noi per fortuna Abbiamo già giocato al gioco Di conseguenza sappiamo Dove dobbiamo andare Ma vi giuro Per esempio Giocare la prima volta Questa scena Io ci ho messo un botto Un botto no Però muori molto velocemente In questa scena Il punto è che non sai Se devi andare a destra O a sinistra Quindi inizia a muoverti E all'inizio vai alla cieca Quindi muori un botto di volte Finché non vedi la porta Dici ah è là Però Già il fatto per esempio Ragazzi Vedete come la cam Che non è dall'alto Sapere che c'è una porta Non è scontato Quando la giocate Eh perciò dico Io ricordo che stavolta Sono morto un botto Cioè noi stiamo morendo Sapendo dove è la porta Devi saltare Devi saltare Grazie Quella cosa che salto Non ci avevo pensato Eh sì Con loro i salti devi usare Perché non saltano Sei stato gentile Ti ringrazio Accendi il coso Accendi la luce Ah Guardate che bella atmosfera Ragazzi Io adesso Poi alla fine del gioco Scopriremo dove sta Six Ma io trovo fantastico Sei stato Gennaro E trovo fantastico Marca puttana Sono morto Era un cazzo di nomino Eh E la cosa bella Io trovo molto Cioè Il bello di Little Nightmare Sono tante cose Ora andremo anche dicendo Ma intanto parto Da un qualche cosa Che è interessante Cioè Questa atmosfera nautica L'atmosfera nautica La trovo molto interessante Perché Già dall'idea di profondo Cioè nel senso Già dall'idea di abisso Che non si sa Se sta sott'acqua O se sta sopra l'acqua O se sta in acqua Però Tendenzialmente L'atmosfera nautica Nel senso Dagli degli oblò Queste grandi pareti È Nonché L'andamento Del L'oscillare Dello spazio Se vedete Lo spazio E la cam Continuano a oscillare Come se fossimo Effettivamente in acqua Sicuramente c'è Molto movimento L'atmosfera dell'acqua Già ti dà l'idea Sì La cam oscilla Però con quel lento Oscillare di una nave O una qualsiasi struttura Che magari è marina Che poi Io so più o meno Quello che è Però Il gioco è prevalentemente Come se tu fossi immerso Nel buio Per questo lei Anche All'impermeabile giallo In cerino Cioè L'oscurità è fondamentale L'oscurità Ma anche per dire Il fatto che l'ambiente Dove lei sta Ha un ambiente a sua volta Nel senso Che non è che fuori C'è per forza Capito Che stanno in mezzo Alla giungla Cioè Si intravede Si sente Almeno a me è così Guardate che bella Sta fotografia Sembra una sorta Di prigione sottomarino Però Guardate che bella Questa Questa fotografia Con quel taglio Della luce Cioè È una cosa Pazzesca Puoi scivolare Come si fa a scivolare Corri No Corri R2 Corri è quello che ti È quello che aggrappe Quindi guardate Che bello Per esempio La foschia Attorno alla lampadina Apri là Si nomino La cosa interessante Secondo me Quest'idea appunto Dell'acqua Per cui è sottomarina O è una nave Il punto è che È indubbiamente nautica Guardate come si piega Questa cosa nautica Ti dà anche l'idea Secondo me Tipo Alcatraz Che anche se riuscisse Cioè Dove stai andando Che stai cercando di fare Che stai cercando di avanzare In un posto che comunque È già Non sai dov'è Perché il fatto di stare Su un mezzo O se non è un mezzo Comunque Cioè l'idea Il fatto di stare In una cosa In una struttura del genere Non è come stare in un castello Ti capisci? Lo voglio dire Sì 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 Il castello sta sempre Fisso in un luogo Che comunque è là Anche se questo fosse fisso In un luogo Il fatto dell'acqua È veramente Io lo trovo Geniale Questa cosa C'è una costante Rumore di sottofondo Rumori che comunque Ti inquietano Io a livello Solamente dell'inizio Perché poi ci saranno Centinaia di migliaia Di milioni di cose da dire Però a livello proprio Basic Guardate che bella qua La regia Come va indietro la cam La regia di questo gioco È favolosa Questo comunque Questo intendevo Guarda sopra Questo intendevo La fuga Guardate questo classico Della specie di lenzuolo Arrotolato Che serve tipo Per fuggire Buttato E vedete anche le luci dietro Tipo la prigione Che secondo me Questa specie di cosa Di fune dove lei si sta arrampicando Mi sa molto di fuga Da una prigione E ci sono pure le sbarre Ho un bagno Guardate l'occhio Ah per esempio Questa porta Esatto Poi la telecamera Comunque si può leggermente muovere Però è Ma vedete Anche guardate qua Guardate la foschia Sulla destra Cioè verso dove stiamo andando Vedete che c'è sempre Una leggera nebbiolina Guardate queste cose Di polvere sospesa In aria Cioè La truspera Comunque il altro gioco Non si pena Mi sa che bene vado No ciccio ma poi A me piace un botto Kratos Lui ti sarà Kratos Sicuramente Allora Non è che Non è che non c'è Guardate le latrine Oh un ratatouille Le latrine La cartigenica Cioè ci sono Delle situazioni di tensione Non è proprio Però ci sono Diciamo dei cosiddetti Boss Lì c'è l'elettricità Devi togliere l'elettricità Con la carta igienica Sul pulsante Ah no Devi fare il giro Aspetta Fammi guardare un attimo C'è l'interruttore Chiudi la porta Guarda l'intorno Usando R Chiudi la porta Ok Dall'altro lato L'interruttore sta dietro la porta Bravo Grazie Allora io voglio dire Una sola cosa Gonna Quello che volevo dire Dopo Vabbè comunque L'hai detto tu Una cosa che mi piace Corri Corri Dove Là Ok Ah questa stanza Queste impronte Regà Delle mani Tipo come La stanza Poi la stanza dei giocattoli Guardate che bella che è Qui ci sarà Il Mettorare Che figata Oddio Oddio regà Guardate che bello Sambiente Guardate per esempio Già che ne parleremo anche No scusa Ne parleremo anche domenica Dei giocattoli La cosa Però per dire Guardate che bello Little Nightmares Perché in questa scena Per dire Che ha seguito le scorse puntate Può trovare i mostri E può trovare i giocattoli Nel senso Può trovare la mostruosità Del giocattolo E il giocattolo Della mostruosità Non so come dirlo Questa scena Nello specifico Poi Guardate quanto L'idea Del bambino Abbandonato Tra virgolette Cioè nel senso Deve mettere i cosi Sì Volevo capire se di là C'era qualche segreto Tipo qua Eh lì puoi aprire Perché lo devi fare di nuovo No no Però devi aprire Apri Perché lì Devi spe... Vabbè No Ritorno Ritorno Il lighting è veramente bello Perché poi devi spegnere Per aprire là Ah allora Faccio sta cosa E provo a dire L'unica cosa che volevo dire Che non riesco Però ora sono troppo teso Spogliato tutto Guardate che inquietudine A questo posto Se voleste giocarlo E ve lo consiglio Vivamente anche da giocare Perché nonostante oggi Vedrete come va E' comunque un gioco Madonna per un pezzo È un gioco Che va Secondo me Giocato Non vi dico Al buio Ma sì Al buio E con le cuffie Nel senso È un gioco Che ha un audio Dovete godervi L'atmosfera L'atmosfera Del gioco Poi noi oggi Siamo qua anche Per commentare l'immaginario E portarvi anche Per fare torri di va bene Su questo gioco Perché ci tenevamo un sacco Però se voleste giocarlo L'atmosfera di inquietudine Ve la dà Tutta Cioè Mi chiedo Se in queste parti C'è una cosa Mi sa che non si possono aprire Però guarda Non ti sembra Che una è diversa Delle altre Questa qua No spingi Però che ricordo Niente Niente Solo che Mi sembra Come se avesse Qualcosa di differente Forse il chiavistello In realtà no No in realtà È semplicemente La luce Allora ragazzi Io Va bene Ignes Di questo gioco La cosa che mi piace È che Chiamandosi piccoli incubi Avendo come Sia Il primo Sia il secondo Sia il DLC Come Protagonista Diciamo Ok Avendo come protagonista Dei personaggi bambini La cosa che mi piace È che Coglie perfettamente La Diciamo qualcosa di Anche su Steam Lo dà come horror Qualcosa di paura Qualcosa di incubo Qualcosa di horror Ma dalla prospettiva Dei bambini C'è uno stile Molto Che mi ricorda molto Barton Cioè Ovviamente Ancora più Seriamente Paura Però non è una paura Degli adulti Con i jumpscare È la paura Che potevi avere Quando eri piccolo E avevi gli incubi Quindi è la paura infantile Per me Sto gioco C'è molto Beh Penso che sia abbastanza Ok Sono morto Non ci voglio Cassare la cosa Però penso che sia Proprio la paura infantile Diciamo che Little Nightmare Si è esercizio Il titolo Che cerca di dire quello Se uno dicesse Little Nightmare C'è l'atmosfera Dell'incubo Però in realtà No Cioè l'incubo è la paura Magari del bambino Nella notte Nella stanza Ma perciò si chiama Little Nightmares Perché la questione è proprio Quelle Little Nightmares La musica Se tu senti per esempio Il classico tema di Six Cioè comunque la cosa L'ho anche messo In una versione Sulla storia di Instagram E richiama Per esempio Il Carillon C'è l'idea Di fare queste cose Con il vibrano Da questo punto di vista Per quanto tu dici Che sia banale È l'unico gioco Nella storia dei videogiochi A fare questo Si No quello si Non dico Resso Che sia evidente la questione di questo lato magari Ciccio non ce l'ha arrivato però concordo la cosa bella di questo gioco è proprio questo non solo è una cosa che ma porca puttana scusami perché non mi regolo quando l'occhio devi andare quando sto a destra ho capito scusami Ciccio ho capito sì non è che anche se lo sapesse in memoria se fila tutto liscio il gameplay è una merda non è che devo renderlo realistico io già potrei aver finito e platinato comunque avete notato? dimmi no che volevo dire la cosa che secondo me è bella a parte che io sono molto legato agli immaginari infantili e quindi già di per sé mi piace da morire e amo molto cioè l'immaginario infantile la cosa bella qual è? è che non è che l'immaginario infantile è sempre puro dal punto di vista che non può essere horror nel senso l'horror può anche essere infantile questa è la cosa che amo molto nel senso che riesce ora ora corri inizia a correre vabbè intanto facciamogli e poi quando è totalmente di là scivolo la cosa che trovo meravigliosa è che l'horror infantile qua non è un horror infantile è un infantile che ha l'horror nel senso ragazzi tra l'altro ora 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 vabbè aspetta quando torna a sinistra nel senso che l'immaginario infantile ha anche l'horror e non è che l'horror infantile ma porca troia mi sono buggato non è che l'horror infantile sia meno horrorifico di quello adulto perché l'horror è l'horror e il bello dell'immaginario infantile è che ha tutt'altro tipo di è qualcosa quasi di atapico e quella è la cosa che trovo fantastica e si sente un botto questa cosa cioè si sente la paura del buio la paura dell'essere cercati la paura dell'essere braccati la paura dell'impotenza non puoi fare assolutamente nulla cioè sei nulla sei una bambina diciamo che è una cosa che là c'è un nominio intrappolato una cosa che mi piace molto di questo gioco è per esempio il fatto che come ho detto Misano in un'altra puntata il mio gioco preferito in assoluto è Bloodborne che è praticamente un gioco che ha una trama ma non ti dirà mai la trama non ti dirà ah quello si chiama così eccetera ora per esempio Little Nightmare uno o molte persone che lo criticano dicono non ha una gran trama ma per esempio dipende la trama è fantastica dipende molto la skill di chi fa giochi simili è quella di Porti in quella condizione di bambino quello che volevo dire è che per esempio uno può dire ah non è la trama però già per esempio guardate questa cosa dell'occhio cioè in realtà uno può dire sti cazzi è un occhio che uccide in realtà qua c'è tipo tutta la trama nel senso già vedete che ci sono praticamente delle sacome che sono come di pietra come il mito della gorgone e tu quando tipo muori diventi di pietra quindi in realtà quest'occhio è una sorta di sistema di sorveglianza tipo grande fratello è una sorta di cosa che ti guarda e in realtà vedete che gli altri sono bambini quindi in realtà già se voi guardate questo sangue per terra e i disegni cioè in realtà la trama c'è stata sin dalla prima scena siamo noi che stiamo andando fast però in realtà la trama non ve la dirà mai diretta così come Bloodborne tant'è che guardate i disegni per terra e guardate una cosa duplice cioè l'occhio se non fosse importante quell'occhio che guarda perché ci sta l'occhio inciso sulla porta e guardate questi disegni di bambini nel quale ci sono occhi disegnati e anche l'occhio disegnato là quindi l'occhio l'occhio potrebbe essere benissimo quello di prima però tendenzialmente è come già poco a poco ti aggiunge che c'è un grande occhio che sorveglia tutti e quando ti becca tu muori però non è neanche una morte banale cioè muori diventi praticamente parte della scenografia dell'incubo diventi una sorta di statua di pietra quindi c'è molto secondo me da osservare è un gioco che se si presta attenzione ai dettagli ti dà una cosa se si gioca solamente per superare delle difficoltà te lo godi a metà come le fonzi se non ti lecchi la figa com'era se non ti lecchi mi dissocio vai sotto il letto vai sotto il letto vai sotto il letto chi cazzo è? vai sotto il letto questo qua davanti ma che cos'è? è il custode spegni la luce ah vabbè lui è cieco oddio ragazzi non so se si vede bene sentite il cuore accendi ci sono dei bambini dormendo in questa stanza io dovrei salire da sopra oh mi ho disemmosso qualcosa per il bambino allora regà respira come il mio coquillino allora regà dovete sapere avete visto questo coso non spoilerò però praticamente dovete sapere che quello che diceva il Puno diceva senti il cuore perché si sente il cuore di Six quando stai per essere scoperta sgamata anche perché non c'è un dialogo né una scritta la lore è tutta nascosta nella scenografia e nella progressione esatto quando vi sentite il cuore di Six questo controller se giocate con il controller fa e poi il cuore fa tutto tutto quindi la vibrazione in combo col battito del cuore che in un gioco del genere è perfetto mi metto un'ansia assurda regà anche perché ora ritroveremo questo personaggio avete visto che i nomi che io vi do sono i nomi che ripeto trovate sul sito guardate questi giornali che è bello sul sito di Little Nightmare perché in realtà è solo lì che troverete i nomi questo personaggio si chiama il custode poi nel gioco non apparirà mai che si chiama il custode lo si impara lì leggendo anche lì sentite questi suoni la cosa bella è che ogni cosa è molto coerente cioè non va è tutto perfettamente è un'atmosfera perfettamente coerente tipo guardate che bel rattone oh mio dio ah inizio la mia fame effettivamente ho un kinder cereale no scherzo mi ha fatto ridere la mia stessa battuta in ricordo X è vero che ora inizia ad avere fame perché inizia a tagliare la fame poi è smunta le gambe sono proprio due stecchini guardate questa scena questa è meravigliosa ricastro zitta esatto toccerei a tagliare la fame andiamo a vederlo, sentite la musica, è la prima volta che c'è la musica, che bella questa musica poi. Quello che dicevo prima, sentite questa sorta di carillon con questi suoni, con questi armonici superfini, scusami un attimo non voglio rompere l'atmosfera ma quello dietro le grade, cioè non è Giancarlo del montaggio, quello che ci monta quelle clip su youtube, guarda un attimo, che cazzo ci fa là? No, se lui però ci assomiglia, se lui è morto, poi lo vediamo quando lui lavora nella post produzione, ah si è riseduto, secondo me è Giancarlo, anche perché lui si siede spesso, quindi per montare, si ragazzi il cappio che torna, è pieno di dettagli macabre, sembra quando i miei amici mi vengono a trovare nel momento in cui sono depresso e non voglio che venga nessuno, a casa mia è così, ciao guys, ci vediamo qui l'ambito, A dopo onorismone, grazie mille a onorismone per il sub, apprezziamo tantissimo, allora, grazie e grazie di essere passato, rosico perché so che sarà una mega puntata, non ti preoccupare, eh proprio perché è una mega puntata puoi tornare tranquillo, ma per noi il top sarà il 2, che quello non l'abbiamo neanche giocato raga, cioè stiamo cercando di fare la maratona per arrivare al 2, che siamo il 1, non l'abbiamo giocato, stiamo aspettando da un botto per torre di va bene di giocarlo con voi, stiamo cercando... Il botto è l'11 febbraio, io continuo a dirlo Sì, però per quanto l'abbiamo aspettato, cioè vogliamo condividere con voi questa emozione di aprirlo insieme, tipo pacchetto Però ho capito, guardate questa cosa, per esempio, che c'è stata la musica, no? Cioè il fatto, questa scena è meravigliosa, questa è abbastanza Si vede, per esempio, io so che morirò, però ti potevi guardare bene perché ci sono le scintille, cioè questo tipo quando ho giocato la prima volta sono morto La cosa interessante, dico, guardate come nell'unico momento, per esempio, in cui Six aveva fame e quel Giancarlo del montaggio gli ha dato da mangiare Quando c'è stata la musica... Oh, devi farlo di nuovo? La cosa bella è che quando arriva quella musica, quella musica la sentite un botto Nel senso che è la prima volta che arriva un discorso musicale che è di accompagnamento di conseguenza alla storia E però non sai se ti tranquillizza o no, nel senso la musica a suo modo è accasante perché è musica Eppure è un tipo di musica che angoscia, cioè ha degli effetti particolari Diciamo che rende quel momento simbolico e misterioso E proprio con questo silenzio e questa oscurità le musiche che sono così, diciamo, proprio sullo stile di Little Nightmare Un po' bambinesche ma sempre inquietanti Quando ci sono, sono molto poco presenti ma quando ci sono tipo esplodono perché con questo silenzio e questi rumori non te ne dimentichi No, è una scala a cazzo Non è una scala a chioccio, è una scala a cazzola A puzzola Ok, leva Lei voleva No, no, prima Ok No, no, è giusto, è giusto Non mi ricorda Sì, sì, questo è lo sposto a destra e a sinistra Ok, allora Dovrei avvicinarmi Poi salire, cioè prima di andarmene Fa così, suppongo, no? Sì No Madonna mia Ok Il primo livello è più tranquillo perché, diciamo, ovviamente è più facile E' incentrato su, per ora abbiamo incontrato come nemici le cosiddette sanguisughe nere Allora, qua mi sa che bisogna aprirle Guardate quanto cazzo è piccola Sentite i rumori quanto sono belli, guardate quella piccola ruggine su questi archivi Le dimensioni sono molto anomale, nel senso sono tutte proporzionate al fatto che è surreale, capito? Eh, qua devo ricordarmi però, sai? Mi devo dire una sorta di combo per salire sopra E non mi ricordo esattamente Ecco quello sopra lì Questo qua dovresti poterlo fare Quello sopra, questo che ho appena tirato fuori Porca troia Porca troia Allora Questa è chiusa Sì, fatti Devo trovare, devo capire Allora, aspetta, aspetta No, l'ho, ho fatto No, no, pazzo, fosse un po' così Ok, fai a sinistra Non vedo un cazzo Ah, non è a tempo però Così Nel dubbio Porri Qua c'è un peso Difatti mi sapevo di buttare giù C'è qualcosa qua Ma sai che le lanterne sono i checkpoint? No Vabbè, in questa versione per pc Perché compare il simbolino, capito? Eh, ma compare anche nella Switch Cioè, salva il fatto che tu c'è qua Ma non è il checkpoint Ah, dimmi una cosa Cerca di essere obiettivo Cioè, non ti sembra la grafica migliore di come l'abbiamo giocato? Sì, penso di sì Ti dico, cerca di essere obiettivo perché Per chi non ha visto la contetta precedente Uno è un nintendiano Beh, perché me ne intendo? Vabbè, io devo usare il caffio Non è molto rassicurante Tant'è che figata, però Veramente Muove le gambette Cioè, guardate sta cosa, regà Occhio che scende il pose Mi sa che dopo questo c'è la stanza Quella con... Nella spirito del tempo Quando si allena con Goku Per prima del boss finale Occhio che ci sono i verni Salta, salta Guardate, ragà, che atmosfera Sto buio Poi la gamma a un certo punto indietreggia E ti ritrovi di colpo in degli spazi enormi Magari c'è qualcosa Sicuro? Sì Qua mi sa che tra poco c'è la stanza Quella... Della spirito del tempo Proconda Ah, qui c'è un altro occhio Occhio, occhio Capita Sì Vai, vai, corri Voglio capire i tuoi pattern Quello che è cos'è? Una specie di secchiello Con le cose per pulire Sì Infatti devi camminare lì accanto Però vorrei aspettare Guardate che bella la nebbia, ragazzi C'è C'è un altro Altri bambini di pietra, hai notato? Anche prima ce l'ho Per terra Sì Dico qua però sono tipo Più nascosto Ascovacciati Qui ti conviene secondo me Non tenerti Mamma mia che ansia Vai un po' più avanti Yes Fuori Mamma mia Guardate che bella sta profondità di campo Cioè manco Sonwell S'avrebbe fatto una cosa Ma ti immagini Ma ti immagini Ma guardate che bello È sfogato È quello C'è sfogato perché c'è anche Questa nebbia Guardate gli ingranaggi che si muovono Corri 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 Porca troia Porca troia Deve spingere il coso Mi sa Sali su quel fregno Sali su quel fregno Ci sto provando Aiuto Madonna mia Ma lo ricordavo Terribile Che esperienza Devastante Comunque posso dirti Ma secondo te Hai presente cosa sono le mod Nei videogiochi? Le mod? Nel senso delle moda Quando esce un videogioco Modificato dai fan Te le immagini Little Nightmare Dove invece di Six Tu giochi con Hulk Per il discorso che facevamo ieri Che è la legge più forte Sarebbe molto interessante Beh sarebbe figo Se tu giocassi anche con Seven Anche con Five Beh uno gli potrebbe dire Fai schifo Allora abbiamo finito il primo livello Soprannominato Lo scoprite solo adesso Perché è comparso l'annuncio Della trofea di Twitch Sì di Twitch La prigione Vedete subito la porta con l'occhio Allora adesso Diciamo che passerei la parola E anche il controller In realtà il controller Ti ritiro la parola Io me ne vado a prendere la Coca-Cola Però perché non va? Ah perché solo con l'analogico? Ah le frecce Forse sì no E ti ricordi i comandi Prima che iniziare Saltare Con R2 ti abbassi E con L2 Con l'altro parallelo afferri Ok e questo è correre Quadrato Ti prendi un quadrato Il triangolo è qualcosa? Il triangolo non l'avevo considerato E la tua tazza ce l'hai? Sì Guardate che bella questa immagine Accenderò la luce E me la faccio lento a sto punto Sentite Mi prenderesti una fiesta? Sentite sti suoni ragazzi Che meraviglia Io amo molto la fotografia Di questo gioco C'ha delle luci Pazzesche Che cos'è quel simbolo Stacolm? È tipo Nutella? Cioè andiamo a esplorare A questo punto Poca cola è caldissimo Io la metto a lasciare Tipo il freezer Mettere in freezer Mettere in freezer L'ho messa È tipo troppo calda Ciao sono Bufu È un cappello cilindro Ah interessante questa cosa Dov'è il cappello cilindro? No stavo cercando di capire Cos'era quel Allora se notate È una costante In stanze che apparentemente Sembrano tipo senza elementi Però in realtà Se guardate bene il pavimento È sempre la costante delle scie Ci sono delle scie nere Che possono tipo ricordare Quell'inchiostro, pece Petrolio Quella specie di sostanza Che c'è quando ci sono le sanguisughe E ci sono invece Delle vere e proprie scie di sangue E questa cosa rende tutto Molto più horror Queste scie nel pavimento Questo pavimento Ricorda molto gli scacchi Tra l'altro Ah la tua faccina È un cappello a cilindro Lol Ah me la si ha portata Me la si ha collata Si ha collata Come si dice a Roma Quella lampada non ha collo Non la frequentiamo Io ci sono stato Un annetto insieme Poi ci siamo lasciati Però devo dire Che tra le mie ex Era quella più brillante Che meraviglia Grazie Lo so Le mie battute Sono fantastiche Qui mi sa che non c'è niente Forse devi fare gli altri due cassetti No Quelli ti fa solo arrampicare lì Questi niente Ok No Puoi usare la sedia Difatti Mi sa che non c'è niente Mi sa che è niente Ma gira la Capito Come lo stesso L'improvero Che mi hai fatto Tu al primo livello Cambia la prospettiva Dello schienale Voglio vedere se però Lo posso grab Proprio No Non me la fa tirare Capito Perché troppo Provevamo a spingerla Sono rimasto incastrato Sei un gigante Ecco Succede Eh lo so Perché sono No vedi Non me la fa proprio prendere Non so perché Difatti io qua però Ricordo Che non c'era niente In realtà In questa stanza Ma perché ti stai Focalizzando su quel cassetto Magari ti basta solo la sedia Per salire sulla scrivania Ma sulla scrivania Sono già salito E allora Che dobbiamo fare Niente Io qua ricordo Che c'è in realtà Niente di che C'è tipo un bonus Lassopra Quindi Ci stiamo Come al solito Nella nostra vita Provendo dei problemi Che non esistono Cioè Come si potrebbe sentire Quello scaffale A cui non mi serve un cazzo Però chissà Così per livello intellettuale Qua Ma come minimo Si scopre che la porta Davanti è aperta No la porta L'aperto io Ma è un E o Perché non mi fa entrare Vedi che non mi fa salire Puoi provare a muovere La gamma con l'altro analogico Per vedere se La soluzione è salire sopra No io dovrei continuare qua Io so dove devo andare Io devo andare qua Eh ti ripeto la cosa Che dicevo prima Ci stiamo facendo Dei problemi Che non esistono Solamente perché No perché Voglio vedere Vuoi vedere cosa Come quando guardi i fossili Mentre parlo dei tremors Ma se no Perché l'hanno messa A sta stanza Ma non è che c'era Una statua Di quelle là Speciali No c'era Una lanterna Che ho acceso Avete visto Il programma Puno Che entra in stanze Offerto da Il gran Puno Che entra in stanze Sponsorizzato da Il gran Puno gigante Che Vabbè basta Aspetto Ah era per dire Top Non l'ho capito Non l'ho capito Non l'ho letto Cioè io ho commentato La sua emoticon Dopo mezz'ora Tu hai commentato Il suo commento Alla sua emoticon Dopo che è stato Il messaggio Con la differita Pi' lunga Della storia Della internet Della chat Devo dire Che però La responsabilità I comandi È migliore Con la switch Eccola Mi pareva Che non diceva Qualcosa Allora Intanto perché La switch C'è un sistema Di vibrazione Che è favoloso Però Io non ho avuto Un problema Nel mio livello E lui Che fa cagare E dice No però La switch È tutta un'altra Roba Regà Perché io salto E non prende Uè tarallo Uè tarallo Perché devi usare Devi fare Nel momento giusto Quel comando Quando salti Nel momento in cui Il salto è più alto Oppure tieni premuto Non è che Non è che Ah perché ti devi Grappare R2 Sì Ok Questa è una stanza Che adoro Me la ricordo benissimo Questa è la stanza Del custode Praticamente ragazzi Guardate Questa stanza Si sviluppa Tutto in lungo Guardate tipo C'è un ritratto Ci sono dei piccoli ritratti Che ricordano molto Lo stile Per esempio Un po' surreale Anche di tanti artisti Di oggi Tipo mondo bizzarro Guardate questo qua Tipo il carlino umano E l'occhio Che sta là Sono tipo Dei lavori Cioè ogni piccolo ritratto Sono dei lavori In realtà Un po' Che hanno Tutti un loro stile Ci hanno fatto Dei dipinti Dentro al gioco Con uno stile Got Surreale E inoltre Questa stanza Guardate che bella La carta da pareti I mobili La carta da parati Da parati Da paracchi Da babbalocchi La carta da apparecchi Over 2 No c'è il senso La stanza complessivamente È meravigliosa Il tappeto A livello cromatico A livello proprio artistico Come è concepita È proprio bella da vedere Tra l'altro Scoprendo pure Che ci dorme il mostro Quindi è molto bello Ci starà Di fatti Qui ci vive il custode Il custode È quello strano personaggio Che abbiamo visto prima Di cui adesso C'è anche un ritratto Lì Per cui vi mostrerò Anche il ritratto Si vedrà meglio Più avanti Il personaggio del custode Purtroppo per i nostri cuori Anche Sì Però Molto belli Questi mobili Che praticamente sono Guardate questo letto Il particolare di questo letto Allora Guardate le cinghie Questo è un letto Che appunto Ha Diciamo Le cinghie Da ospedale psichiatrico E ha Diciamo Io penso Sì Anche per Per reggerlo Però è la cosa interessante Diciamo che ricorda Iconograficamente Da un punto di vista Di immaginario Quello Quindi aggiunge subito Con questo Vedete anche il dipinto Indietro Ci sono Quelli che abbiamo chiamato I nomini Che nel gioco si chiamano I nomini Guardate quel dipinto Lì A sinistra A destra I nomini A sinistra Il custode Quello è il custode Che di fatti Poi vedrete Vi sfonda Perché c'è un udito Della madonna E il cuore Di fatti Di Six È importante Quando lui c'è Cioè il fatto Di sentire quel cuore Che palpita In maniera terrificante Meravigliosa È come un tremors Cioè Si basa sui rumori E quindi tipo Dove c'è il cuore Di Six Che batte Lui si avvicina Meraviglia Sto posto Praticamente Lei è salita E abbiamo trovato Per la prima volta Una chiave Deve servirà Per questa porticina Che però io vado Pure avanti Perché non ricordo Se c'è pure Qualcos'altro Lì Ciao Pikachu Ciao Pikachu Che tra l'altro Ci scrive dalla Spagna Davvero? Si si Ha scritto Venus Diaz No Questa stanza È tra i miei ambienti preferiti Perché se guardate Anche per esempio Guardate il gabinetto Cioè guardate i tubi Del gabinetto Cioè si Comunque Si aggrovigliano Sono tipo Riescono ad essere inquietanti Pure i tubi del gabinetto Concordo Guardate Ecco Allora questo richiamo Un pochino L'impiccato All'inizio Del primo livello Però in realtà Sono tipo Dei vestiti Semplicemente Che ricordano Solo a livello Di somiglianza La cui sei morto Ricordano L'impiccato Del primo livello E praticamente Dopo i vestiti Ci sono dei fili Dove ci sono tutti I vestiti appesi C'è tutta una mansarda Piena di oggettini Sì una mansarda Una cosa Uno scaffale Pieno di oggettini Ora quando ritornerà Sopra Vedete Guardate Guardate bene Quanto è bello Sopra Tra l'altro Per chi dovesse Essere interessato Per mi sa 3 euro 5 euro Comunque Li vale Ne vanno Ne vanno La pena Ne vanno Soprattutto Ne vale la pena Ci sta Very Little Nightmare Che è il gioco Uscito Per IOS Sicuramente Per cui Per iPhone Ma se non va per rato Anche per Android Lo trovate negli app store O in Google store Insomma Di Little Nightmare Che hanno fatto Ed è sostanzialmente Quasi un prequel Di Questo Little Nightmare Ed è molto interessante Molto carino Come gioco Con tutt'altro Tipo di grafica Però Cioè Che non è Tutto altro Tipo di grafica Nel senso Negativo Del termine Tutto altro Tipo di grafica Che però Secondo me Merita Merita Ovviamente Se vuoi giocare A Little Nightmare 1 Quel gioco Per IOS Per quanto appunto Sia piccolo Vi darà Dei dettagli Degli elementi Di lore Degli elementi Di lore Un po' Tipo Che sono ambientati Prima Di Little Nightmare 1 Io qui Volevo riuscire Ad arrivare Lassopra Però vedi Non ce la faccio Vabbè Rinuncio Guardate che bello Sto tavolo Col vino Cioè Meraviglioso De pantofole Sto Sto Baccante Come si lancia? Eh Devi Tenere premuto Mi sa R2 Però sto già Tenendo premuto Allora Allora Quadrato Prova un po' Quello con cui Quello con cui Afferri Vi tenere premuto E ovviamente Direzionare No Quello con cui salti Ah ok Che sarebbe X Vi tenere premuto X Di fatto Lol Che cosa? Lei è lanciata Contro il lucchetto Guardate quanto è grande Quella cazzo di chiave Rispetto a X Devo far vedere un attimo Questa stanza Guardate questa cosa Raga Cioè Per esempio Il fatto che noi L'abbiamo giocato Vi Appunto Come dicevamo prima Vi fa vedere Le cose più faste Di quelle che sono davvero Nella stanza Del custode Ah Questa è bellissima Nella stanza del custode Io ci ho messo una vita Per capire Che quella parete Non è una parete mobile Questa ragazzi È un giocattolo Che si usava Tipo i boomer Magari che hanno Più di 90 anni Se lo ricordano Negli anni 30 È tipo una scimmietta Con dei piatti Tra l'altro C'è anche in Sta vibrando tutto È una specie di ascensore Questo È questa scimmietta Che praticamente Poi diventa Un oggetto Che si utilizzerà Nel gioco Quindi si abbassa Con Quello Questo qua a sinistra Questo qua Vabbè Sono già basso Quindi la scimmietta La scimmietta Con i gong Con i mini gong Tornerà È un giocattolino Molto Che attualmente Non serve a nulla Però poi servirà Dove sta C'è un bottone Lì? Ah no Esatto È lì Devo riprendere il giocattolo C'è anche in Toy Story Tra l'altro Sì In Toy Story 3 Adesso regà Preparatevi a morire Di ansia È la scimmietta Che abbiamo tutti in testa Quando facciamo finta Di ascoltare la gente Sicuramente Ci saranno molte persone Che ci guardano Che avranno Tipo pieni di scimmie A casa Cioè guarda Mi sa che è qua Io nel dubbio Sto qua dentro SIX si è nascosta Dentro la scatola Queste luci dietro Fantastiche Questo ascensore Nonostante L'atmosfera anomala A livello storico Sembra un po' Anni 30 Anni 20 Anni 30 Quel quadrante Adesso regà Inizia il panico Provate a immaginarvi A che cosa può servire La scimmietta Mi so cagato indosso La fame dei SIX Vediamo se qualcuno Ci arriva Cioè rispetto a quello Che abbiamo detto prima Abbiamo parlato prima A che cosa può servire La scimmietta Abbiamo parlato prima Vi abbiamo fatto vedere Uno Per fortuna La mia fiesta Stai diffondendo La fiesta Nel mondo Lui ancora Non l'ha mangiata Poverino Perché sto giocando Quando rigioavete Ma perché non mi c'è Nel c'è la luce Ti devi avvicinare di più Devo dire A livello di gameplay Cioè a livello di giocabilità E' meno l'esponsivo però Devi considerare una cosa Che c'è una traduzione Che i comandi per PC Ci sono anche molte più cose Mentre noi siamo Noi siamo praticamente Voi non lo vedete Stiamo utilizzando Il controllo della PS4 In combinazione con Steam Ma si può poter utilizzare Guardate questa scena Spesso Sentite la musica C'è della carne Importante questa scena C'era tipo della carne C'era una gabbietta Guardate quelle mani Sono tipo 20 metri Le sue braccia Ragazzi Sono tipo lunghissime Non ha gambe Mi pare Si sarà piccolissime Allora sul custode Diciamo Non si capisce Ora si vedrà meglio Poco a poco Quando l'abbiamo giocato La prima volta Io e Puno abbiamo avuto Un piccolo confronto Un dibattito Nel senso che Più che altro Cercavamo di capire Se ci ricordava qualche cosa A me personalmente Nonostante non sia Molto diverso Mi ricorda molto Nightmare Del film horror Perché Non sono tanto Le braccia Che sono ovviamente Lunghissime E con le dita lunghe Nightmare Agli artigli di metallo Però secondo me È una sorta di Maione a righe Che mi ricordo Un po' quello Di Freddy Krueger E poi il cappello Cioè È la faccia Diciamo Quasi ustionata Sì Ricorda Freddy Devo dire Non so perché Questa cosa Stai praticamente Spostando un collega Stai usando Tipo un bambino Un bambino Intrappolato Come cosa È un po' crudele No? Deve essere No nel senso Che non lo liberi Muoveraccio Come fai a liberarlo? E usa Una spell Palla di fuoco Distruggi serratura Aspetta Spella Diremo in diventi Vediamo che diventi No Più indietro Ho sbagliato la prospettiva Totalmente Credo Bravo Bravo Ah Devi starci So Devi Rimanerci Sì Ah Puoi Fa così Eh Lo devi far pure Dopo le salsicce Dopo le salsicce Sì È un punto In cui Ti serve Farlo Va bene Guardate Sta stanza Riprovo La Coca-Cola E mo' Digamo Ricordo Questo Dove vado Dove vado Ah Lì c'è un qualcosa No Qui c'è un bug Devo andare su Forse devo Arrapplicarmi qua Difatti Così è Com'è Calda Che lei credo Guardate Questa lascala A bagno Vi sta piacendo Tendenzialmente Vi piace Considerazioni Fino ad ora Allora Sia se vi piace Sia se vi ricorda qualcosa Cioè giochi simili Film Che cosa vi ricorda Questo momento È con il custode Magari Però dipende Quanto è caldo Ah vabbè Dai Questo momento C'è il custode Siccome lui è cieco Io se cammino Sui panni Non mi sente Guardate adesso Questa cosa Vedete che lui Prende Come dei nomini O i bambini Adesso lo vedrete Sentite il cuore E li avvolge E li appende Guardate che figo Guardate come prende Il bambino O il nomino È come se facesse È un bambino Lo vedi il bambino Che sta là È tipo una fasciatura Con tipo lo scottex Che è un po' Sembra la fasciatura De questi facciamo In antichità Con i lunati Un po' sembra Tipo il salame Come se li insaccasse Eh no perché di fatti Sopra ci sono i ganci Che lui prende Come l'insaccato Come la carne No Cioè guardate che è Crudele Potete aumentare Un pelino Il volume del gioco Certo Sì Allora lo faccio Posso mettere in pausa Vai option Non funziona No Ah Sì Aumentiamo un pelino Tu che sei un fonico Mi dici Quanto Vai Dammi Fai tu Tu che stai Si sente bene Ma magari ci perdiamo Qualche suono Più leggero Tipo il cuore Un pelino proprio Adesso come minimo di posi Si spalda tutto No lo alzano un po' Vediamo E così E se non mi voglio E va bene Comunque questa cosa Dei ganci Dei bambini È molto gore Sì Cioè è molto estrema Qui non mi ricordo Cos'è Perché lui adesso Mi giocherà Guarda il bambino Che sta qua dentro Percorso però Devo aspettare un attimo Che ritorni là dentro Vedete come si piega Tutto in questo Quello dicevo L'atmosfera nautica Ci sono le forbicione Appese dietro Dove lui Tipo infascia I bambini Cioè si potrebbe Deturre fino a questo momento Ovviamente È un'ipotesi Perché non c'è Proprio nessuna Spiegazione Ma non è che Tipo è spoiler Non esiste Non si saprà mai Però si può Si saprà se lo Sfiloessero a scrivere Si può supporre Nel senso che No nel senso che Non saprei neanche io Se è l'interpretazione corretta Comunque Che questi bambini Sono in qualche modo Intrappolati In questa struttura C'è Sixx Una di questi bambini Che sta provando a fuggire Fino a questo momento Della drama Guardatelo Si sente il rumore Se non l'avete sentito Oltre il cuore Anche delle sue ossa Sì Invece Si sa C'è una lore Che puoi andarti a leggere Sì Si sa Esatto Quello che c'è nel sito Che c'è nel sito Fino a questo momento Che si può capire È questo fatto Che i bambini Sono intrappolati Soprattutto il custode Vi permette di capire Questo C'è un momento Proprio importante Della drama Tra l'altro Per quanto uno Può dire Ah Questo è un gioco Che definireste Infantile Insomma L'immaginario infantile Però in realtà È molto più horror Nel senso Di molti altri giochi Cioè Il fatto di Insaccare dei bambini vivi E appendergli a un gancio Cioè Non è molto È bell'estremo Raga Mamma mia Che pansia Che pansa Che pansia È quello che dicevo È che in realtà Uno dice È un immaginario infantile O è più horror Ma il punto È l'infantile Esclude l'horror Perciò Secondo me È una cosa fantastica Perché prima di essere horror È infantile Ed è proprio un horror Cioè L'immaginario infantile Ha anche l'immaginario horror Ed è questa la cosa fantastica Certo Perché infantile Non vuol dire Un adulto ridotto Che vuol dire Ho la parola Non vuol dire Un adulto ridotto Porca puttana È cacciata una scarpa Ah oddio Questo è il momento Delle scarpe Quanto è figo Vuol dire Semplicemente Paura Vista dagli occhi Di un bambino Che però I bambini Sono semplicemente Altre forme Cioè un'altra forma Del vivere Della vita Quindi inizialmente Possono essere sicuramente Molto più complessi Di noi Da punto di vista Di sensibilità Ci fanno il culo A livello di sensibilità Regà Infanzia Lol Lol Esatto Infanzia mi piace Qua guardate ragazzi Scarpe rosse Bellissime Guardate questa cosa Delle scarpe Perché adesso Dovrebbe esserci Il momento Delle scarpe Che tra l'altro Ricorda Io ogni volta Cito questa cosa Cito questa cosa Dell'Olocausto Eccetera Comunque sembra un divinto Sì Io cito questa cosa Anche delle scarpe Per esempio Dei genocidi O delle cose Delle camere Ma sarebbe meglio Non citarla No Ci risociamo Che qualsiasi cosa Però il punto Secondo me Interessante Qua è proprio Questa cosa Del massacro Dei bambini O tu vedi i bambini E vedi le scarpe La cosa più bella Diciamo Quello che rimane Di una vita Che non c'è più Gerra Siamo in totale Disaccordo Io e Puno Nel senso che Io noto che Almeno nella versione Per pc Ogni volta che L'accendi C'è un salvataggio Mentre il Puno Prima affermava Che secondo lui Non sono Dei checkpoint Le lanterne Perché è uguale Anche nella switch Puoi anche Non accenderle Non è che ritorni lì In realtà Sono delle Come vedi Sono dei puri Riempitivi di loro È una trasmissione Molto bella Perché siamo Sempre a un punto Di vista plurale Quindi dateci il sub Allora Io poi non parlerei In questa stanza Perdonami Perché è molto bello L'immaginario Di questa stanza Vi lasciamo con l'ansia Di questa stanza Volevo far vedere Volevo far vedere Questo Cosa c'è Tra le scarpe Si scoprirà In Tremors 5 Esattamente La risposta Io ho visto la saga Non sapete L'ansia Che è sta cosa E qui non vedo neanche Un cazzo Cioè Ora non ricordo Dove Mi portare Là Mamma mia Corri 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 Ce l'ho fatta Io amo L'immaginario Di questa stanza Questo deposito Di scarica Di scarpe Dove qualcosa Alberga Là sotto E non si sa Cos'è Cioè Estremamente Maga Che scena Meravigliosa Che scena Meravigliosa Ricordo un po' Il discorso Che hai fatto Sullo squalo Perché puntata fa Cioè Non ha bisogno Il gioco Di most Porca puntata Porca troia Non mi ricordavo Eccolo Perché Devi andare correndo Eh ma stavo andando correndo Però allora devi fare abbassare Non Cioè tu Non devi fermare la corsa E poi la scivolata Se tu fermi Eh ma la scivolata Qual è? È quella di abbassare Ah in corsa però Io credo fosse L'altra Io qua già corro Guarda che bello Se puoi la luce Eh Io credevo che fosse Ok Credevo che fosse L'altro Non so perché Quello che è da fare Corri zia Corri Corri Guardate questa scena Io qua devo correre qua Forse Sei salvo Sì sì Sono salvo Te lo ricordo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Però un pochino Un particolare del custode È tendenzialmente Che la mandibola Lui Siprotutto quella di sotto La muove in maniera totalmente innaturale Deforme Deformata E quindi tipo Vedete questa mandibola Che fa così Oscilla Ed è molto Raccapricciante Da vedere Mi fa ridere Quello di sotto Ah Qui è questo Ora Rammendo Che poi Effettivamente Ah Adesso la domanda Che vi ho fatto prima Dovebbe essere Un pochino più chiara Cioè sappiamo Che lui è cieco E regisce i rumori Quindi questo tipo di item Che prima Non aveva un senso A poco a poco Assume senso Nel confronto Con il custode Diciamo che lo attira Nel bene Nel male Difatti È totalmente Utile Vi porto avanti Per far vedere Come sentite il cuore Difatti Qua vedete il custode E guardate Qua Guardate lì C'è un'altra scimmietta Guardate Le dita Sembrava Quella lattuga Come si chiamava Ti ricordi Lattuga Finger Lettos finger Giarrà Come si chiamava Il cartone Quello super creepy Su internet Di Dita di lattuga C'è il fatto Per esempio Il custode A parte Nel primo livello I bambini Che diventano pietra Con l'occhio Il custode Sembra Ah bravissimo Sembra inseguire Questi bambini Abbiamo visto Abbiamo visto la scena Dove ci sono tutte le scarpe Delle persone Bambini Non bambini Qua se vedete Ci sono molti giocattoli E' come Salad fingers Salad fingers E' come se Praticamente In questa stanza Non si capisce Se gli danno Dei giocattoli Per intrattenerli Oppure Se tipo Sono i giocattoli Che hanno Sequestrato Tutti questi Bambini Prigionieri Comunque Una stanza Dei giocattoli Piena di giocattoli Tra cui Anche le scimmiette Sembra un Calidoscopio Però ora Devo correre Fortissimo Per vedere la tazza Perca Troia Secondo me Avevi fatto La cosa giusta Però secondo me Tu dovevi Lanciare la scimmia Totalmente Dall'altro lato E inizierà A piottare Il più veloce Possibile Eh però Lì ti cerca Spero che tu Quando hai iniziato A fare la tua impresa La scimmia Era da mo Che aveva smesso Di suonare Capito Però sente l'odore Questo stronzo Capito Adesso devi Semplicemente Solamente lanciare La scimmia No La scimmia Ce l'ho Dall'altro lato Eh aspetta Falla andare di là Vedi la scimmia Esatto Che non me la prende Più tieni premuto Mi sa più la lancia lontana Aspetta Quando arriva più lontano possibile Piattano Eh stai cercando di piattare No Mamma mia Che ansia Bravo Bravo Eh ok Adesso ci sarà un'altra cosa Sopra C'è un'altra Cioè Lui Sta per finire Questa parte qua Mi sa so Io Stavo per finire La nostra maratona È durata tipo Non è vero Non siamo ancora a metà Ragazzi Vi piace L'avete visto Sollevarsi Oh mio dio Sembra un ragno Qua Sembra quasi come Un ragno Che se ne va via No non sta a finire Manco per un cazzo No Mo c'è Ah raga Mo è una parte Meravigliosa Guardate queste stanze E oggi E in questo momento Capirete anche perché La storia di oggi Porca troia Ce l'hai davanti Sì ma lui non mi sente Che sto sul tappeto Però adesso Gli orologi Esatto Gli orologi Fa un po' tutto Sto questo È un po' il factotum Di questo mondo Di incubo Cioè Riparo pure gli orologi Lui sentendo tutto Sto rumore Mamma mia Questa stanza piena di orologi È bellissima Più orologi Non che Arriva Guardate che è Rega A sto posto Questo intendiamo Anche un po' Con l'immaginario Con l'immaginario infantile Nel senso che Soltanto dei semplici libri Nella prospettiva di Six Possono formare Delle colonne C'è un po' Tutta questa questione Di la semplicità Cose semplici Che però Fanno scenografia Guardate che è Pure qua puoi andare Volendo Mi sa che qui C'è qualcosa Da accendere Comunque Questo piano Sembra tipo Spada di Damocore Che può cadere Un momento All'altro Non vedo niente E lo muovi Provai a sparare Un po' a destra A destra Si deve andare Vedi Ditti dall'autosalvo Che figa Sta stanza Sta stanza Questa parte qua Adesso capirete Prima ho fatto La storia Su Instagram Con un televisore Quel televisore È tematico Nel senso che Adesso ci sarà La scena del televisore Che bello Sto piano Guarda che Cavolo di meraviglia C'è questa scena Vedete sempre L'ombra di Six Che figa Uuuuh Oppure col rumore Cioè Onestamente No perché mi sa Mi dispiace Stai prendendo forte Vabbè Mò mi riprende qua Tendenzialmente Regà Cioè Questo è un gioco Unico Non esiste Niente di così Niente con questo stile Così bello Niente Cioè ci sono Delle piccole Eccezioni Nel senso che Comunque se uno Volesse andare a vedere Dietro Little Nightmare Come precursori Speriamo anche Di portare anche Quelli sul canale Però ci sono Di giochi come Inside Come Limbo Però Little Nightmare È proprio Un gioco concettuale Cioè Un'idea È un immaginario Unico Fatto alla perfezione Volevo far notare Che prima Ho rotto la statuetta Però poi Se non sono risponato Ho rotto la statuetta Ho risponato All'inizio Perché nessuno Ha detto che le statuette Sono i checkpoint Io già ora Dicevamo le lanterne Ma non dicevamo Le lanterne Ma le lanterne Sono uguali Guardate Che potrebbe anche Essere giusto Quello che tu dici Cioè che il checkpoint Ci sono a prescindere Però io dico Che ogni volta Che accendere le lanterne In genere C'è un salvataggio Guardate là Si è tutto ingomblinito Lui Tutto gobbo Se facesse palestra Sarebbe meno cattivo Ah questo me lo ricordo Qua sono morto Un botto di volte È la prima volta Che l'ho giocato Mamma mia Cioè Perché lui qua Cerca roba Il principe Cerca roba Che cosa Tra l'altro Camminare Questa qua A sinistra Non lo so Perché se no La vigna La butti a destra È più attivo No no Qui comunque Devi evitarli Perché il punto Non è Mi sa Con lui Senti come annusa Ah lì c'è Sotto c'è una candela Secondo me Se è una scimmietta Non senso No 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 Io me lo ricordo bene A questo punto Ma devo dire Mi ricordo abbastanza bene Tutto il gioco Quindi So qual è la mia via A me ricordo In qualcosa Un Ravel Io non lo conosco Un Ravel Un Ravel Un Ravel 2 Un Ravel Che cos'è Un gioco Un Ravel 2 Guardate questa scena ragazzi È tachicardica Un Ravel 2 Tu intendi Quello dei due tizi No Cioè Ah quel gioco co-op Della Switch Però Allora Come comandi Capisco Come tipo stile di disegno Però Non era Horror Estremo Era Magico E poi La grafica In realtà Anche quello Un puro platform Forse lui intende Sul disegno Delle sagome Il character design Allora Guardate questa scena Meravigliosa Questa musica Inquietantissima Sono stato un po' Troppo incordo Secondo me Cioè Potevi aspettare un pochino Perché lui Poi non ci va Proprio davanti Però Si sciaglia Ora mi trova Che Lui Poi mi sa Che proprio Si infogna Si mette A guardarla La tv Io la va a spegnere La scena della tv È bellissima Il fatto che Nella tv C'è proprio Un bianco e nero Che sembra Effettivamente A livello di disegno A livello di animazione Proprio Una tv Anni 50 Qui c'è il panico Quindi c'è una sorta di Esce un attimino Dall'atmosfera Però Scusate ma mi verrà un'ansia Però è fatta molto bene L'effetto della tv Che si accende E se voi Vedete bene Purtroppo C'è tipo Una donna Una casalinga Anni 50 Che sta cucinando Spera 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 Che mi viene un'ansia Scusate Forse non l'ho cucinata Abbastanza Esatto Mamma mia Questa parte è terribile Non so da dove Me lo fa sponare Da dentro la stanza Mamma mia Quello che stavo a dire Guardate la tv C'è una sorta di Scena anni 50 E c'è una donna Con delle pentole Guardate quanto è Fatta bene Nello schermino Della tv C'è molta cura Poi la musica Tipo per bambini Quando la musica Per bambini Diventa la cosa Mi ha mostrato Anche il mondo Ecco quella Che è chiamata La casalinga Guardate Fanno vedere E mi resta Comunque vai Mi racconto la presta No no Perché lui se ne accorta Sempre Però devi andare qua A nasconderti Qui se ne va Però se ne va Dall'altro lato Devo aspettare Che ritorni dentro E adesso C'è sta cosa Che devo immettere Un'ansia Sta cosa Devi girare La manopola E' stata sul piano Sì Ma devi girare La rosa Per amica Stava l'opola Che senti lui Nella mia Probabilmente L'uomo Già qua Ma stai correndo Mamma mia Guarda Mi cerca di prendere Il puntale Bravo Ce l'avevi fatto Eh Ora però C'è il boss E' il boss Nel senso Ora regà E' greve Ah no Aspetta Intanto vi mostro Questa stanza Qui ci sta Questo Gas Caldo Caldo Tipo di vapore Terrificantemente letale Una torta anche di Binario Tipo carrello Per le miniere Se notate No Eccolo C'è questo binario Comunque io Unravel Non l'ho mai giocato Il primo Ho giocato Al secondo Un po' A me me ne hai parlato tu Con la Switch Sì L'ho giocato con Gerrard Peruccio Però non è Entusiasmante Nel senso Dove un po' Le dinamiche Sono quelle Tanto non è che siamo Dati particolarmente Avanti In realtà Sembrava prendere piede Un qualche cosa di interessante A livello di storia Però Secondo me Se a qualcuno Piace Little Nightmare È una cosa unica È difficile Trovare qualcosa di simile Però Si può provare Come abbiamo fatto noi Inside Anche Limbo Che è in bianco e nero Sì sì Beh li giocheremo Tra l'altro Sia Limbo che Inside Se vi piace Little Nightmare Dopo questa live E volete giocare Qualcosa di simile Andatevi a cercare Inside E Limbo Sono due giochi Che hanno qualcosa di simile Oh no Che sfiga Ma poveroccio Non lo potevi sapere Non me lo ricordavo Però Si ho capito Ma una persona Come la prima volta Fuori È veramente Difficile Allora Mi dispiace Ci ti è rimasto male Ma no Un pochino Perché hai fatto Una run Bella lunga Senza morire E' stato bravo Ahahah Ah slope Ma quando ti avversi Abbiamo Un pochino Abbiamo È interessante a breve finirà la parte del guardiano ed è un'ansia pazzesca e sono contento che tu fai la parte dopo mi piace e ora devo rimanere incollato guardate che bella la regia ragazzi guardate giù vedete i corpi mamma mia ma sono gli insaccati di prima i bambini insaccati che guardate quei cosi appesi e poi quanto maiale mi sento molto ma lo so anche a me anche io mi sento molto maiale poi no si tu sei due maiali è detto quella la cosa cioè guardate che bello cioè come si avvicina la cam e guardate come sposta ci sono delle specie di particelle di polvere nell'aria quello dicevo prima quando c'era nella luce e guarda che bello come ci sono queste particelle che si avvicinano quando si avvicina alla camera fantastico perché poi ti dà la profondità in realtà sembra una cazzata ma queste cose ti danno il puntino se opaco più grande e quello più lontano è un escamotage anche per dare una sensazione di profondità e di presenza ancora più grossa questa cosa che hai detto all'inizio che è un 2,5 d quindi sono molto utili allora qua ci sarà un qualche cosa che è un jumpscare terrificante e però io ricordo ecco qua avanziamo lentamente ci sta pure una lanterna ho detto qua ci sta pure una lanterna non basta avvicinarsi? si arriva avvicinando che è il punto giusto ecco ok guarda quella fenditura ah sono due tra l'altro ora raga c'è l'ansia quindi io mi preparo perché ho già l'ansia perché c'è l'ansia della vita grazie Andrea 56 55 56 66 ah scusami sei morto praticamente a questo punto dove sei io sono morto un botto di volte no io no allora in realtà non sono morto mai ma sono rimasto 40 minuti perché non capivo come andare avanti eh no si però è un macello non c'ho l'ansia però per fortuna sono già qua praticamente ragazzi guardate questa stanza il 6 è intrappolata e il custodio cerca di afferrarla e tassa dappertutto è un incubo cioè non puoi scappare è veramente terribile raga perché non tira? ma perché non tira? tu con l'analogico stai andando all'altro lato eh sennò questo fa no scusami questa cosa no allora ho capito la resa guarda tu devi andare il momento giusto no io devo tirare ora capite io sto tirando perché non stacca? no ti giuro questa cosa non mi è mai capitata io ricordo che nel momento giusto tu devi intanto mi sembra guardare che interrompi tu devi continuare a tirare senza mai interrompi eh ma io non interrompo mai e poi devi stare nel momento in cui lui devi aspettare tipo due minuti proprio questo magari ce n'è uno da fare prima esatto quando le mani sono anche da una parte più facile no cioè il pattern è lo stesso perché ora farò magari è prima uno e poi l'altro guardate la crudite di questa scena ragazzi no raga c'è un problema con questa leva cioè io non so se sto tirando dal... cioè io sto premendo in qua dove devo premere? allora l'altro si riesce quello non so perché non me lo prende e questa cosa mi sta facendo lì sei morto due volte io sono riuscito alla 60 ma uno va ora aspetta aspetta vedi un attimo cosa fa lui dove si è uscita con le mani ma la stessa identica no scuzzami non ti voglio no muori che ti devo dire ma la quella è la si vede quella più incurvata non so se avete notato la scurreggia di felicità del custode quando prende 6 io l'ho notato effettivamente ma che vero che non ha fatto anche lo scurreggio di custode ma vaticativo buona impressione no questo già l'ho preso allora io so che tu sai tutto quindi non ti dico se la cosa che non capisco anche di costanze che hai è che mi sembra che vai velocissimo io sarei stato lì a studiarmi il pattern per una cinquantina di minuti il pattern mi sembra perché già lo so qual è il pattern eh lo so ma tipo si ti butti cioè calma calma cioè abbiamo 8 ore ma stai un'oretta qua subito devi perché lui vuole il cambio al pattern intanto che il pattern mettalo lì ci facciamo una reaction a Cristina dove ne ritorniamo vediamo come sta ma che mi sei stupato e sei andato allora bravo sei salvato dici sei riuscito a non morire è stato bravo secondo me lui adesso allora riallarga le ponte andrà là sopra dove sei tu e tu adesso esatto vai vai non ti fermare mai no sì sì allora vuol dire che tu stai prendendo nel punto sbagliato però farei tu eh ma c'è qualcosa di strano ma non so perché all'inizio non si staccava e abbiamo cambiato punto è andata subito vuol dire che il punto è più grande no è andata subito l'altra quella che sta di qua la prende l'altra non so perché non la prende questa qua mi sa che ferri quello sbagliato esatto eh già rara dice questo eh ma non capisco qual è quello sbagliato su due il primo è giusto ce n'è uno più in fondo ancora eh ma sono solo uno ok allora ora guardo di nuovo però ok adesso guardiamo bene quella griglia c'è un altro in fondo ancora può essere però mi sembra strano mi faccia prendere qualcosa ma non lo intendo questo qua quindi io sto tirando quello giù salta scappa secondo me sono tre no 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 sono due sono due ma questa cosa l'ho fatta con fiero becco quattro giorni fa perciò dico lo so sicuro cioè uno a sinistra uno sotto e uno a destra che non hai mai preso è uno solo a destra è solo questo raga no è solo quello conferma ma non ho mai preso andrea che non hai preso andrea ma non ho preso andrea Ho già giocato a questo gioco Eh, pure io, anche noi E' proprio per questa la cosa Siamo bravi e riusciamo comunque a morire Siamo bravi intrattenitori Quindi facciamo vedere finta che siamo scarsi Ma in realtà Ti giuro, non capisco perché non tira quella cosa Mi sta facendo irritare da morire Palma Sì, ma... Prova dall'altro lato, provale tutte Prova tutte le angolazioni Non è che devo usare La prima sbarra per fare da perno? No, 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 no E' lo stesso meccanismo? Oh, cazzo, l'ho pure preso E' vero che scoreggia? Sì, infatti piaceva ridere perché è vero Allora, la prima è facile Non capisco perché la seconda Però non la prenda Ma poi perché quando parli della seconda Provi dall'altro lato? Continua a ritrovare dal primo lato No E di fatto io ora parlo Stavo provando da questo Facciamo questo test Devi stare monolato La scurreggia e il top Ma allora è vero se sei la scurreggia Questo cambia un po' la trama di Little Night Per cui ci pensi Non l'avevamo preso in questa situazione Infatti c'è una scurreggia Del custode Che poi effettivamente... Ah, poi ti tocca Vedi, però il problema lì è... Eh, greve Questa cosa è la scurreggia Fa troppo ridere Vabbè, si vede che c'ha le gambe volte Non riesco a sentire tanto Sono d'accordo Cioè ho quasi voglia di morire Per fare questa cazzana Aspettiamo un attimino che lui tocca Allora... Il pedalato di prima ti sia messo per avanti E' quello il lato? Eh, dico Siccome il per ora non ha funzionato Proviamo sempre dall'altro lato Dove è iniziata la prima sbarra Magari... Eh, proviamo a tornare Dove era la prima sbarra Se siamo bloccati Dico magari Devi prenderla qua per risolverla Visto che a destra non funziona Prova a sinistra Ah, perché mi lo fa? No, greve No, secondo me E' una questione dell'analogico Perché io tiro Ma è come se spingesse Io ti voglio tirare Ma non so perché Dovrei riuscirci ora Secondo me Però vedi C'è una questione strana dell'analogico Non è che devi tirare su Invece che indietro Dice Gerrato No, è qua per esempio Morca da morca Ah, scusate Ah, scusate Non puoi vedere No, sta cosa mi sta facendo intoppare un botto, regà Scusami, io poi mi intoppo Eh, quando le cose non rispondono Come dovrebbero rispondere Mi fanno incazzare da quando me Sei troppo veloce Eh, sei troppo veloce Posso pure Allora Io starei lì Con calma Evita prova Evita prova Evita prova Magari la tensione a gioco No, poi ti stai tendendo No Ti sono cascato sulla mano Sul dorso Ti stai tendendo pure tu Eh, vabbè La cosa bella Adesso ogni volta che moriamo c'è una scureggio di mezzo Io ho perso molto più tempo con la DLC Ah, vabbè La DLC No, non alla fornace Sulla finale Io alla fornace ci ho perso un botto Io La fornace scialla Quello dove ho perso un botto di tempo E' stato lì Alla lì Ci ho messo una vita a capire che cazzo fare col cuoco Adesso? Col cuoco Un cuoco più avanti Un cuoco più avanti Un cuoco più avanti Un cuoco più avanti Oh Oh Ora spiegaci qual'era la Per lui non è di lato È in basso È alle ore 5 Che per lui è dietro Non ho capito per quale poter Quindi era Chi gioca con l'analogico È la questione dell'orientamento dell'analogico Guarda, guarda la mano che ti cerca Guardate, guardate Sono andato a sbattere sulla mano Avete visto? Mamma mia Quello che volevo dire prima Su questa scena È che Provavo ansia Ovviamente per Six Ma provavo Sapendo come andava a finire Anzi anche per il custode Perché comunque Non è Lui ha soltanto le braccia Cosignificative Quindi Finito Sapendo Sapendo come sarebbe finita il custode Provavo ansia Anche per lui Che gli venivano tranciate le braccia Alla fine lui Questo povero custode Adesso tipo Come farà a lavorare? Speriamo che ci sia un sindacato di Little Nightmare Perché C'è tutto faceva con le braccia Gli orologi Le bambo Gli insaccati Ma che cazzo fa? Niente Lo trova Il Movimento 5 Stelle L'assegno di cittadinanza al custode Vai tu In versione di va bene Allora Ah Finito la Tana Come ti senti? Ti piace? Mamma mia Secondo me il secondo livello È Diciamo Il livello più povero di Little Nightmare totale è il primo Perché è rispetto a tutti gli altri Quindi è sicuramente Il secondo diciamo che ha il personaggio che preferisco La cosa bella è che non esistono i mob Nel senso che Ah questo Non sono delle copie Esistono dei soggetti Tipo il custode Adesso troveremo i gemelli Vedete che qua praticamente ci sono le cose che prima chiamavamo insaccati Che però sono un po' più grossi no? Cioè questa specie Cioè questa specie è prima Il primo livello abbiamo usato per definire questo luogo Eh il Granpuno ha usato sottomarino e io ho usato prigione Eh Adesso Io ho detto ambiente nautico Ambiente nautico Della Una nave, un sottomarino E io ho usato prigione Adesso c'è tipo l'atmosfera macelleria Con questi ganci che Fuliscono no? Della macelleria Non volete fare una pausa di discussione Di un'ora e trenta? No, anche se stiamo finendo un po' prima Che porto fuori i vetri Stiamo andando molto spediti raga Rispetto a Ci aspettavamo di stop molto di più Allora questo mi sa che è sbagliato Il gancio credo Ok Guardate questo mi sa molto di macelleria questo momento Che porto fuori i fedro Ah ok lol Fuori il fedro Perché il fedro vive Il fedro di Gerrard Il famoso libro di filosofia antica Guardate là dietro che cazzo è? L'avete visto? Poco Si dico loro non lo sanno Vabbè Una vi spoilerare le cose Scherzo Guardate qua quanti insaccati ci sono Sono tutti i maiali di Fogna Che sono morti nella battaglia contro il reale Un po' come le guerre puniche Come si dice in Friuli Sono insaccati là Sì Ah allora Quest'X ha di nuovo fame Giustamente Ce l'ho qui io Tu ti sei mangiato la fiesta Non ci vado più dalla fame Ecco Il resta gli sta rantando lo stomaco Siamo comunque in tempo eh Avevo iniziato due ore fa Cioè è giusto E un po' di cercare Io andrei più sereno Più calma Eventualmente se fino a prima Facciamo il DLC Eh quello giù Beh però alla fine ci sta Perché in tutto Non dico quanti mondi sono Diciamo quanti Quante scene sono Però Sentite la musica Quando lei ha fame Spunta la musica Ragazzi c'è un tovo in una trappola no? E lei E la musica si riprende e cambia no? Perché prima era l'allent Tipo la perdita di forze Questa era Questa è una scena molto inquietante Perché finora abbiamo visto l'inquietudine Però Six diciamo in qualche modo È quello con cui ci siamo identificati Il protagonista Mentre in questo momento Vedete questa Six Che mangia un tovo Inizia a inquietarvi pure lei Non sapete più In che cosa rifugiarvi Per star bene Ecco Allora Allora Devi spingere Sto gioco Io non vedo Le regati giocare al D2 Cioè Io È difficile Riuscire a pensare Se Al D2 Che mantiene il livello dell'1 Cioè È interessante Però Il trailer Promette molto bene Eh Sì sì Speriamo Cioè Ci sarebbe veramente Sangue Sangue Qui si vede Sangue Rega Guardate che meraviglia Rega Le piastrelle Carrelle Il carrello Il carrello Per saltare nella In questa sporgenza Suppongo Sì Sai che faccio Io mi mangio Lecca 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 Guardate che bella questa dispensa Guardate che bella questa dispensa Di chi varia Guardate le lecca lecca di lui Anche Volevo vedere meglio La vedete il lecca lecca E ora lo apro Siamo Siccome stiamo da Dal cuoco Allora ragazzi Mi sembrava doveroso Voglio darmi il lecca lecca Guardate Il lecca lecca È bellissimo È artigianale È lui È lui È lui Guardate che bella La stanza dove stiamo entrando È una delle Secondo me Dei posti più belli Di tutto Little Nightmare Uno Cioè Questi personaggi qua Questa stanza qua È proprio top Rega Guardate È proprio deludente Guardate la sua faccia È tipo Estremamente grosso Guardate il cappello Guardate tipo È come se la faccia Si squagliasse Non solo Se fate caso In realtà questa cosa La conferma Loro hanno Cioè Parca puttana L'ho visto subito Sì La testa Cioè Non è Guardate Vedete la macelleria La cosa è che la faccia squagliata Lui ha una testa addosso Nel senso Lui ha una faccia Messa sopra Si vede anche l'attaccatura Per cui lui sotto Ha un altro volto Quello che dico Per cui è deludente Mi dispiace perché poi ho fatto un botto È lui È lui Per chiederlo Per procurarmelo In un contesto Adesso È un sacco di colori Prima salatini sa di limone Ma aspettavo qualche cosa di più Il cuoco è troppo figo raga Non si capisce che carne è Guardate che bistecche giganti Non si capisce che cazzo è Guardate il vapore Poi sentite bene quando mi sgama Perché mi sgamera e morirò varie volte Il verso che fa Fa tipo Così Oh mio dio questa scena è un'ansia Ecco Lo sentite? Chissà se lui scureggia pure Nessuno la Non so chi farebbe questa domanda Prendo un salsiccione Questa è la cucina Guardate questo forno Non vi ricordo un po' Hansel e Gretel Cioè il bambino Braccato Beh l'Italia diciamo sicuramente Complimenti Greve L'idea per esempio di Guarda che spico quel fornone Che sembra un pesce con l'occhio dentro L'occhio dentro il forno Cioè sembra un pesce Poi mi ricorda C'è il pesce gigante a destra Quella scetta La mannaia Sì un po' tipo Ah c'è sto mio mino Un po' tipo che ti devo aiutare Infatti Un po' tipo la sirenetta Quando c'è il cuoco Mi ricorda Mi ricorda Occhio che te vede lui eh Eh lo so Ok sono morto Allora qua che Cioè qui c'è la paura infantile Devo ricordarmi La paura infantile Ti dico niente? Non mi ricordo perché qua Non mi ricordo come si va avanti Quindi provo a capirlo con voi La paura infantile Grossa Del Ti mangia l'uomo Cioè capito ti mangia L'orco L'orco Mangiatore di bambini Esatto L'orco Il boogeyman Cioè Poi lui ha proprio una faccia Come diceva Il granpuno C'è questo effetto Letterface C'è una faccia che non è faccia C'è proprio C'è scritto nel sito Allora cerco di capire Allora qua non mi piglia Devi dire una chiave Ho scoperto che in realtà hanno maschere Esatto Quello intendiamo con Leatherface Nel senso che ha Sono maschere fatte di pelle Chi sa com'è sotto Eh quello è bello Io non sopportare La gente che porta una maschera Vero? Non lo farei mai Mascherazza di scelta eh poi Non ricordo se la chiave è dall'altro lato Beh di là Cazzo Sicuro che ti la Sicuro? Vedi se c'è la chiave sul tavolo Mi pare in realtà che sia Proprio a destra Vicino alla porta finale Salendo in quella specie di manzarda Con gli ingredienti Rompendo un barattolo là sopra Può essere Ok no ritorno indietro Oddio non è che è dentro il pepe qua Lo butto? No 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 No? Ok È difficile da mangiare sto lecca lecca È immenso Non solo non ti entusiasma È addirittura difficile da mangiare Beh non mi entusiasma perché è al limone ed è immenso al limone Allora intanto provare Cioè questa cucina è bellissima perché c'ha un'idea di fornace Cioè ti dà bene l'idea della fornace quasi infernale Devi farti aiutare dal nomino Occhio Forca puttana Però guarda questo l'avevo scoperto quando giocavo Se tu fai così Lui un po' si intrippa Un po' bagga Però se tu rimani così Solo che prima o poi devo fare qualcosa Devo qua Potrebbe essere dentro qualcosa di qua da questo lato la chiave Eh? La saliera La papiera Questa cosa Non ti ricordi vero? Vedi lì là sopra però Dentro il pesce Non mi ricordo assolutamente Lui adesso prende il barattolo E va a condire il cazzo di pesce Allora Proviamo dai Che cosa? La saliera sopra La saliera sopra La saliera sopra sì Ok Ok No Sali su sto coso Sali su sto coso Ah vero C'è tutta la cosa del soffitto Cazzo Non c'è nessuna chiave Cioè non c'è la chiave Si però Ora mi ricordo Non c'è Mi ricordavo proprio sai Che c'era sta cosa Io qua ci sono stato una vita quando ho giocato Occhio che non devi spuntare quella roba Perché? Se non gioca Magari ti serve dopo Fino della soluzione Magari fa la chiave Ah appunto Eh però Esplode un po' Ma hai visto che c'è un pesce spada che prende? Bellissimo Guarda quanto il cazzo è grosso Quanto lo so a sinistra È uno squalo È uno squalo Sì Bellissimo lo squalo Che il buone È mio 972 No? Quello è 2L 75 Allora Forse abbiamo trovato la strada Va bene Ignes Mi sa... Nooooo Ah perché lui va dagli squali Mi sa che abbiamo trovato la strada eh Guarda sto doppio bagno Che serve? Perché... Forse lui è un po' sovrappeso Eh ma guarda c'è un... C'è un quadro là sopra LOL Una saponetta Cioè c'è un quadro Cos'è sto doppio bagno? Cioè chi è che si siede così a c... È fantastico Alla chiave ora mi ricordo dove è Ti ricordi? No Non farei cadere quella cosa No? No Qui ci sta il gemello che dorme Nasconditi sotto al letto Un attimo vai avanti Occhio che c'è il cuoco che dorme No Ma io non vi ricordavo di niente La chiave è appesa lì al muro Devi prenderla Appenderti Però non mi servono chiavi C'era l'ascensore No L'ascensore ti serve a tornare giù No Devi aprire quella porta Appenditi a quello Fai avanti e indietro Cadi E vai subito a nasconderti giù Sotto al letto Che figata Perché sveglierai lui Prendi la chiave Madonna mia Cioè io pensavo al mattino quando mi sveglio che non sto in forma Guarda il quadro diviso a metà come il cesso con i due gemelli Hai visto il quadro? Guarda che inquietante il quadro Poi guarda che vedi bene i visi Sono di visi lol Allora Comunque dopo questo livello No cosa? Sto curioso Era per lo squalo mi sa Vi vediamo dopo in bocca al lud Ah grazie In bocca al ludus Dopo questo livello lo riavvierei un secondo Perché inizio a laggare un pochino Che cosa? Riavvierei il gioco un secondo La vedi che sta laggando un bot 6 Guarda come sono i frame Ma lì? Il gioco di Steam Lo chiuderei e lo riavvierei Ah ok Dopo il terzo così si ripiglia un attimo Beh aspetta di arrivare giù Cioè dopo il terzo livello Dopo questo Ah è lungo però eh Quando finiremo il terzo livello? Non mi ricordo nulla ti giuro Non mi ricordavo del secondo cuoco Non mi ricordavo proprio la seconda stanza Questa parte qua a zero Sto cercando di capire Ok passa da sotto Vedi come lagga Ok devo praticamente rifare lo stesso percorso Forse sono che ora probabilmente saranno tutte e due No è uno solo Mi sa Ah ok Ah no forse sono due Perché l'altro te lo ritrovi su Paolo Paolo Già Parchi Heppare E al Corri, non mi ricordo perché, ma si accorgerà di te. Guarda che bella la cosa che vorrei spiegare. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo aperto la cazzo di porta. LOL, apriti! Abbiamo aperto la porta. Questa parte è andata. Però tu comunque corri. Allì lassù. Possiamo esplorare con calma qui. Forse si passa da sopra. Vediamo un attimo. E ora c'è tutta la grottigio della salsiccia. Allora, come si chiama in italiano questa cosa? Tipo, che c'erano nelle case molto vecchie. Per fare le salsicce? No, le salsicce, come ci sono nei film horror. I porta vivande. I porta vivande, che collegano vari piani. Ecco, per dire, il porta vivande è un altro tipico archetipo dell'horror. Tant'è che dovrei usare il porta vivande. C'era un film dove c'era il porta vivande horror. Quello con due sorelle che lei è rimessa traumatizzata. Sì. Bravo. Oddio, qual'era? Che lei stava male. Mi sa che è Petsmetry quando praticamente si ricordava lei la madre quando si menteva la sorella che era morta così. Ma però non era... Era nel porta vivande. Sicuramente Petsmetry c'è la cosa in cui vede poi è... Basta, basta. Esatto. Devi andare a dimettere le altre. Devi salire sul porta vivande. Ah, no. Come salgo? Da... Sei sicuro? Sì, sì. Trovo a portarti lo sgabello. Poi devo saltare da là. O usare quello come... Da qua devo andare nel porta vivande? Sì. Ok. Mamma mia. Che inquietante. Sono palesemente tipo carne umana. Allora, qua... Che cazzo? Carne umami. Che vuol dire? Guarda, guarda, lei sta respirando tipo... Si vede tipo il suo fiato. Sì, ma prendo se non ho le frigorifere. Ok... C'è una statuetta. Questa statuetta... Mi ricorda... Perché... Mi ricorda... L'aspetto di quella... Della... Della specie di caista. Della signora che abbiamo... Della filmato iniziale. Mi sa che... Qua non c'è un cazzo. C'era solo la statuetta. C'era solo la statuetta. No, devi andare avanti. Qua bisogna aprire. E buttare le cose giù. Però prima bisogna buttare la carne. Ok. Devi salire su. E sfilare quella carne. Come si fa? Deve aggrapparti a quella. Oppure salire su. Oh, cazzo! Ce l'avevo fatta. Mamma mia come lagga. C'è pure quel... Che figa è la cella frigorifera? Come tipo di ambiente. Questo lo trovo veramente veraviglioso. E' figo. Perché in genere i giochi horror devono per forza creare... Mettere dei cliché horror. E' facile tipo... Gli zombie. La villa indemoniata. Invece questo qua è tipo un horror con degli oggetti quotidiani. Cioè con qualcosa magari che sembra... Come la pila di libri. Come la carne. Come tipo... La cimbia. La cosa bella tra l'altro. Esatto. E' che questi oggetti quotidiani. Sono quelli del mondo del bambino. Nel senso... Rientrano proprio... In questo archetipo. Come si apre? No, da giù si apre. Però il punto è che ne devi mettere una... Un'altra. Io ricordo che sono tre pezzi di carne. Non due. Forse intanto bisogna fare questo. Una alla volta. Io andrei indietro. Vedi lì. Vedi se è quello un pezzo di carne. E lo è. Quello. Sì. Sembrano dei coscioni. Dei prosciuttoni. I prosciuttoni. Sembrava mio cugino. Che purtroppo ha fatto una brutta fine. Bello. Ma... Non il professore Unipocus. No, no, no. No, no. Eravamo una covata di 16 maiali. Davvero? Sì. Con 32 cugini. Ogni maiale. Mazza. La filosofia. Allora. Allora devi andare giù e tirare il coso. Il signore è arrivato al suo piano. Voi ci vedete bene? Ci sentite bene? Lagga? A me qua mi sembra che laghi un botto. Ma ve lo vedo pure io giocando. Propposti che laghi da noi eh. Secondo me bisogna... Bisogna un attimino chiudere il gioco. Così tipo il pc un attimino si raffredda perché si sforza di meno. Tipo 5 minuti e poi riaprirlo. Ok ci sei. Praticamente penso che useremo le salsicce come una sorta di fune. Che cosa hai lavorato? Ma come cazzo gli è venuta in mente questa idea? Fantastica. E' folle. Poi fai le salsicce di umano. Ok. Mi sa che c'è pure la scena dell'ascensore tra poco. Ok. Sempre frigorifero. Sempre freddo. Entrala dentro. Entrala dentro. Ah no. Vai e chiama l'ascensore e entra là dentro. Scusami. La cosa figa è che non ricordandomi niente è come tipo rigiocarlo la prima volta. Cioè questa parte è proprio rimossa totale. Devi correre eh. Corri. Ok. Qua suppongo che arriverà il fuoco. Oh cazzo. Entra. Ok. Eccolo. E tu devi andare a vedere l'ascensore. E tu devi andare a vedere l'ascensore. Cosa farà lui? Vedi come ti espira. Un respiro asmatico. Un respiro asmatico. Ah del formaggio sta perdendo. Il formaggio sta perdendo. Chi sa come cucina. Beh si vedrà poi diciamo come cucina però. Nel senso una scena dove si vede la gente. Dai devi andare. Ah non va più lontano no? Va più 8? Però da quelle parti. Pensavo che andessi a zona Viterbo poi. E' bello. Questa gabbia. Guarda sta luce. E' bello. Con i giorni e poi i giorni. Esatto. E' bello. E' bello. Guarda sta luce. E' bello. Vedete che sotto è tipo verde. Qui si vede quando si gira. E' roba addosso. Si un po' alla base del collo si... Che cazzo? Tossisce. Ha pure il catarrolt che l'ha smanato. Non è messo benissimo. Mi piace questa cosa della respirazione. Come tipo di... I rumori. Cioè un qualche cosa esatto. Della respirazione affannosa. Del mangiare così come il custode. Eeeh. Guarda quanto è inquisante che hai quando... Quanto è gruda sta scioglie. Come taglia. Esatto. Cioè è pazzesco eh. Allora. Vediamo qua. Mamma mia ma è terribile sto rumore. Terribile. Devo andare dall'altro lato. Devo andare dall'altro lato. Salire su. Prendere la chiave che sta sul tavolo. Ora si girerà. Mamma mia. Senti come respirassi. Ti giuro questa carne spappolata mi fa troppo senso. Mi fa troppo... Troppo schifo. Non è da fare. Io considerando così che non manco. Guardate questa scena è terribile. Ma io lo trovo fantastico. Devi salire lì sopra. Lo vedi il buchetto? La chiave non la prendo. E devi fare casino di là. Un po' come... Ah. Devi accendere il frullatore. Mazza ma ti ricordi tutto tu? Eh. Ma che cazzo di memoriai? Buona. C'ho la sinestesia. Lì devi prendermi un bottone. Ma è qualcosa tritacarne. Ma è terribile questa scena. No. Io sono riposto. Grazie del sub. Christmas. Christmas del sub. Ciao. Del... Grazie via del follow. Allora. Grazie del follow. Ho capito. Quindi rullo. Prulli e torni da dove sei venuto. Sali. Ok. Entra dentro eccetera eccetera. Riprovo dai. Christmas. Mi piace Christmas tra l'altro come noi. Perchè sapete di tipo Christmas. Ma Christmas per l'arrivo di Marte. Te lo ricordi? Come si chiama quella serie anni 90? Mars. Kevin se sei online chiediamo l'aiuto da casa. Ehm. Al di là dell'iPhone Mars. Come si chiamava? Cosa? L'archeologa Vittoria Mars. L'archeologa. Una sorta di serie. Era bionda. Ah no. Veronica Mars. Veronica Mars era tipo investigatrice. Era investigatrice. No. Io volevo un'altra ancora che a questo punto non mi viene in mente. Veronica Mars. Grazie Kevin. Un'altra invece quella che dico io. è una sorta di paleontologa. Ehm. Non so se di origine. Relic Hunter. Grazie. Già. Io so che lui è nella mente degli anni 90. Era palesemente ispirato alla raccotta. Esatto. Palesemente un Tomb Raider. Per. Corriba. Vai sali sul tavolo. Usando quello. Butta le cose. Vai sotto il tavolo. Sotto il tavolo. Chi è? No. Perché ci sta una pentola. Vabbè. Ormai vai sotto l'altro tavolo. Questa? Non so ma arriva. Ma se me ne vado? Eh però aspetta. Mi faccio queste cose. Ah forse ci aveva ragione. Si ci aveva ragione tu. Però abbiamo capito. Abbiamo capito. Com'era Relic Hunter? Io me lo ricordo brutto. No. Io me lo ricordo. Era carino. Mi fa trappolito era la responsabilità. Non so quale delle due ami di più tra l'altro. Tra Relic Hunter e Veronica Mars. Veronica Mars. Veronica Mars andava dopo pranzo e sostituì subito dopo Smallville. Quando tolse lo Smallville. Ed era. Non era bruttissima. Però era mediocre. Io preferivo Relic Hunter. Relic Hunter era una sorta di Rara Croft. Si. Di Tomb Raider. Che però aveva anche la. Andava in onda mi sa. Come si chiamava? Sempre Kevin. Eh. Come si chiamava quella serie dei poliziotti californiani. Non californiani. Mi sa che erano in Florida. Perché mi sa che erano a Miami. Eh. Ah lui parla proprio delle attrici. Beh no. Preferivo Veronica Mars. Anch'io. Io a livello di attrice. Però. Eh. Vi ricordate. Ti ricordi Kevin? Come si chiamava quella dei poliziotti in bicicletta? Te la ricordi quella serie? Si. La vedevo di notte. Di notte. Io la passavo di notte. Una certa la mandavano alle quattro. Dopo Bim Bum Bam la passava. Però può essere Pacific o qualcosa. Non lo so. La vedevo. La vedevo. Si. Se la ricordano tutti. Chiunque. La mandavano. La mandavano. No. Ma che roba. Però era. Corri al cura ormai. Corri. 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 Corri via la cosa. E battimi. Pacific. Vedi che c'è la Pacific. Guardate che bello quelle luci. Raga. Mamma mia che è unificato. Mi piace sempre il verso il bar. Ma che può? Sembra un faggiano gigante. Apri che tu la prima. Quindi mi inizio a perdere. Mi inizio a perdere. Mi inizio a perdere. Mi aspetta che mettermi ansia. C'è il gioco e sto tranquillo. Sei tu che mi metti anche. Corri. 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 Dobbiamo andare veloci. Ma perché? Che rima. Voglio morire con la mia karma. Guarda. Io adesso sto qua e muoio. E mi godo la morte. E mi brucia la morte. Allora. C'era una cosa per il cesso. Una cosa per il cesso. Una cosa per il cesso. Che meraviglia. Eccolo. Siamo sotto il pavimento. Come custode. Esatto. Questa scena è fantastica. Di fatti tra poco dovrei piottare. Perché io vivo queste cose molto survive. Tra poco dovrei piottare. Ma il survival. Non è tipo. Corre. Non siamo Sonic the Edge. No. Però. Ma tipo. Il survival. Se fosse Silent Hill nella real life. Arriva un mostro. Ma arriva. Non si costruisce. Gli zombie. E tipo. Gli zombie sarebbe tipo. Poi le scampe. E il gran punto inizio a correre. Per mo. Fino al deserto del sana. Cioè. Goditi. Lestler emorso. Un attimo. Gli zombie addosso. E fai qualcosa. Guarda. Stanno lavando i piatti. Che figata qua. Guarda quanta schiuma. Questo è greve. Questo è un fatto più difficile. che è un po' di più difficile. Ma io lo sai che quasi quasi me ne vado su. Eh. Dovevi andare. Io direi esplorare. Esplorare. Però dovresti andare su. A un certo punto. E poi correre. Correre fortissimo. Correre. Correre. Dix 100 metrista. Qua è finito. Allora. Tu che dici di passare di qua? Secondo te? Sì. Difatti adesso anche. Non c'è quello. Salisse. Non sale. È chiusa. C'è la grata qua. Ah. Ho capito. Se no era troppo facile. Si vede che non era grata. Non era grata del suo ruolo. Era gratos. Bella questa mossa. Complimenti. Io l'avevo adesso qua. O mi accerchiano. O sono dei coglioni. O mi accerchiano. Eh. Appunto. Accerchiatemi. Guarda. Guarda che stupidi. sono in due. Guarda. Vedi la bocca aperta. La maschera aperta. Si visto. Si. Quando si chinano. Ti sa se c'è qualcuno che li ha disegnati come sono tipo sotto le maschere. Tu che pensi? Ti sa. Esisterà qualche nerd che l'ha fatto. Ecco. Arrivano. E' bello che hanno l'asma e il catarro proprio. Però questa cosa in realtà. questa cosa farà andare il. E' bello. E' bello. E' bello. E' bello. Ciao ragazzi. Ciao Chris Mars. Ciao Chris Mars. Grazie ancora per il follow. E' bello. E' bello. E' bello. E' bello. E' bello. Alla prossima. Tampano a scappare. Però devi prenderlo. Ti dico no? No. E' fra poco rinuncio. Facci capire. Allora che cazzo c'è qua? Eh, se solo qualcuno stesse facendo degli sguardi. Stai guardando la cucina? Vuoi che ti pigli una fiesta? Stai guardando... No, 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 stavo guardando la cucina, ma non vuoi... Ah, uno capisce? Devo esplorare, tu c'hai questa fretta! Non lo so, perché voglio vedere come andiamo avanti, se ho parlato di LG Io non mi ricordo proprio il gioco, cioè per me è come... E io dico al pubblico, per me è così bello, perché non mi ricordo, è come viverlo per la prima volta E tu no, devi fare messi i rovini, tutto, il discorso! Ora gli butti via te in faccia, sarà questo Occhio bene, devi prenderlo... Ma sono sforzo di schiuma! Eh sì, esattamente Ragazzo va! Non mollare, non mollare, e soprattutto ora dovrei... Non mollare ti porto più senza, sembra Ora dovrei fare la corsa per la vita, mi sa Che ti pareva, con te è sempre una corsa No no no, tra poco, guarda qua Ora ti lascerai, devi fare una mega... Dovi lasciarti e fare una mega corsa Pensavo che lo scopo era andare dritto in braccia Riabbracciamoci, basta con la crocetà dell'odio, siamo su Twitch Come è? Corri! Ma dove? Dove? Di là! Non tra le sue bracche Oh io voglio abbracciarlo all'asma, sta male Va bene, va bene Guarda, sono queste discriminazioni con gli obesi Io lo sono Allora Passi sotto il tavolo Sta corsa è grevita, perchè ora arrivano 18 Mi sa uomo Oh! È molto grande Ok Oh, non ti ho preso! Non mi aveva ancora preso! Ok, ho capito il percorso Ho capito il percorso Vediamo un po' se ce la faccio, no? Tu ti fai il piego, ma perchè ti ricordi tutto E non ti ricordassi un cazzo come me Ma come va? Che bellezza! Che cosa è? Una rissa! Allora... Prezzo! Mi sono sentito tipo... No, perchè... Non sono sicuro Di fatto di strapiottare Bello! Bello! Questo è bello davvero, mi sono salvato Il problema è l'altro Quello Dai cazzo! Cazzo, cazzo Vabbè, l'ultimo tentativo Eh, perchè... Che ora ci riesci? La vita è fatta a fase, a tempi Meraviglia Però questo è bellissimo Ma un coatto proprio Guarda come si sporgono il puttano da coltivio A me è il solementa Mamma mia che bello Il solito cambio Il solito chiappo Uh, abbiamo finito Me la fisico Me la fisico Che fatto! Va bene! Che cosa dici? Io vedo un po' di lag Ti dispiace un attimo Per fare una pausa di tipo di due minuti Solo per riavviare il gioco Ragazzi, perchè purtroppo vedo Non so se voi lo vedete Magari voi non avete problemi Ma vedo un attimino della lag Quindi riavvio semplicemente il gioco Un secondo Scusate Facciamo una cosina al volo Intanto questo simbolo Ah, questa è la registrazione Come state? Intanto mettimi Freud un secondo Allora Vi sta piacendo? Mo' riprendiamo subito Riabbiamo il gioco un secondo Lui sta già Eh, preoccupando Ah, si no Aspetta un attimo Ah, madonna Aspettiamo un minutino È bollente proprio, ragazzi Sì, sì Aspettiamo un minutino Guarda che lag Che sta facendo Aspettiamo un minutino Per risolvere Questo problema Di temperatura Del computer E sta laggando un po' One eternity later Fogna Un saluto di Fogna Mamma mia Allora Che cosa è successo? Praticamente Intanto Mi dispiace Un botto Per quando si dice Le forze di causa maggiore Cioè Se fosse stata Diciamo La lag La temperatura Del pc Era un attimino Una cosa che dipendeva da noi Però in realtà Anche questa volta Devo dire che non dipende da noi Non è dipeso da noi Perché cosa è successo? Abbiamo sentito dei rumori E praticamente Era il citofono Allora Inizialmente ho detto Vabbè Non rispondiamo Abbiamo cercato di fare i professionisti Perché la live doveva andare avanti Sì Però è successo che Il citofono è iniziato Di incazzare sempre di più E in pratica Erano gli agenti del reale Sì L'abbiamo dovuto combattere Abbiamo dovuto combattere È stata una lotta ardua Però ci siamo riusciti L'abbiamo battuti Devo dire Meno male che oggi Avevo una maglietta A cui tengo Perché sennò Avrebbero anche strappato Questa maglietta Però Per fortuna Non hanno strappata Ma qui c'è un buco Che cos'è? No vedi Non mi hanno bucato la maglietta Sì praticamente C'è stata la situazione Del meme Quella la FBI open up Cioè sono entrati gli agenti del reale Ci hanno buttato le lampade E infatti abbiamo dovuto cambiare le lampade Deve sentare tutto E il cavo ethernet Se lo sono mangiati Proprio così Così hanno dato E quindi adesso stiamo praticamente Riprovando Sudatissimi È stato come cielo È stato terribile Perché diciamo Anche il tempo Che abbiamo perso Non è stato tanto il problema Degli agenti del reale Perché li sappiamo affrontare Però è entrato uno Che aveva una CA Superiore a 17 Quindi abbiamo dovuto Continuamente tirare Per colpire È stato un casino Non solo Ci hanno infiammato il computer L'abbiamo dovuto spegnere A mani nude Era la prima Che sono arrivati Ci hanno anche bevuto tutto l'acqua Quindi per esempio Sì infatti sono molto assedato Sì di fatti È terribile questa cosa È stata un'esperienza terribile Terrificante Allora Adesso diciamo La prima maratona Vittore di va bene Proviamo a continuarla Il reale Sapeva che c'era La maratona oggi Esatto Perché comunque Che su Instagram Che c'è arrivato Il reale ci segue Quindi è stata tutta Una combinazione spiacevole Allora Io farei Continuerei col gioco Adesso Che devo fare? Allora io Riapro il gioco Adesso Ritorniamo Allora Siamo gli anti Ronaldo Con sta cola In che senso siamo gli anti Ronaldo? Spiegaci la lor è un po' Stacolm è una persona Per chi non lo conoscesse Magari gli altri della community Non lo conoscono Stacolm è una persona che Conosciamo Perché lui è Diciamo responsabile Del fan club italiano Ufficiale di Ronaldo Lui gestisce un forum Sa tutto molto bene Sulla cosa di Ronaldo Quindi lui è molto ferrato Se ci puoi spiegare Un attimino Sapendo che tu comunque Gertisci la community italiana Che poi lui nello specifico Chiedete gli soldi a Ronaldo Ma perché ho fatto la pubblicità della coca cola Non so niente Anche perché lui è esperto Esperto di Ronaldo Mcdonaldo Nello specifico Un Ronaldinhos Infatti Ronaldinhos Salutiamo Ronaldo Che comunque ci segue Sempre Sì sì Lui anche lavora Però riesce Contrariamente a Leopardi Riesce a seguirci live Molto spesso Però pure ci segui su Twitch Ci aveva chiesto di fare Una live Tipo così Per giocare con lui A calcetto Però Diciamo per ora Ancora abbiamo detto Vabbè tu ancora il tuo canale è piccolo In questo momento Magari cresce un po' E poi ci chiedi la collab Vedete se è partito il gioco Controllo un attimo io Si è partito il gioco Allora ragazzi Andiamo nella modalità gaming Scambio schermata Scambio schermata Benissimo Voilà Ok Riprendo partita Vado io? Allora sì Praticamente Nelle puntate precedenti Abbiamo sconfitto la letteratura irlandese Esatto Lei è un po' abbreviata Praticamente Abbiamo finito La terza area Del gioco Che era quello Dove abbiamo incontrato i due cuochi Ho giocato io Quindi adesso Praticamente Di nuovo il turno del Gramp 1 Gramp 1 Fermati un attimo Metti Pausa Metto la chat Scusami Gramp 1 Scusami Scusami Ha spostato le bottiglie di coca Sponsor degli europei Durante una conferenza stampa La coca ha perso Sverati milioni in borsi In poche ore Una roba del genere Dunque veramente Si vede che Gestisce la community Di Ronaldo Sa tutto Noi siamo l'anti Ronaldo Noi essendo figli dei novanta Alla coca cola Siamo figli dei novanta E di casa dei Le uova assurde Di toto Sparando su delle Ok Finalmente Distopiche E con il rock'n'porque Tra l'altro giustamente Diceva che Potevamo scrivere Jurassic Pork Noi con il logo Quello del maiale Jurassic Pork Vado? Riprendiamo Riprendiamo ovviamente Bambini Innes Aiutateci Segnalandoci Segnalateci Quando inizia a laggare qualsiasi Anomalia Lo scriveteci Anche in privato Per chi potesse O per chi non può Seguire su Instagram E direttamente Seguirci Lì Che bello questo tubo gigante Questo sole dietro Due soli Tre soli Ma cosa dico Quattro Quelle luci Vorrei vedere La fine della lora Se andate avanti così Qua sta coca Mi sa che è scivolato In un piccolo incubo Guarda che bello Mamma mia Comunque Guardate la parete metallica Giusto ieri Che bello Sto zitto Perchè sta scena è bella Guarda qua Stascena registicamente Regà Stiamo zitti Perchè sta scena registicamente E' pazzesca Mamma mia Il mare Il mare Infatti è quelli che salgono Sulla nave Cioè senti il Mamma mia Il gioco più figo Di quasi sempre Si Non importa Per me è uno dei gioco In assoluto Quelli a cui abbiamo aiutato Non voglio troppo Ma per me Non è per me Che penso sia veramente Il mio protonico di gioco Come ho detto Non sapere di tutto Anche di Zelda E tutto Ma questo già è forse Cioè diventa veramente Su arte Cioè stiamo parlando Di un gioco Che non è neanche il gioco Si Guardate qua Questa regia Ragazzi Guardate quanto è miccola Six Il fatto Giusto Vabbè Devo aspettare Per dire la mia impressione Perchè non voglio rovinare Questo momento Poi vi dirò Una cosa bellissima Guardate questa nave accanto Guardate come si riavvicina la cam E si riavvicina Come se fosse girato da un regista Guardate lì dietro Guardate questo L'occello Questa La luce che ti mette sull'acqua Tra l'altro Poi torna la cosa che dicevi tu all'inizio Cioè la questione nautica Che diceva all'inizio Non solo Ma ora guardate quei soggetti Là sotto Guardate quello che ha la maschera poi Cioè Stai colm vedrai che verrai sempre più sorpreso Perchè più vai avanti Più è assurdo Cioè questo mondo per esempio è pazzesco Per me è pazzesco Questa parte che viene ora Cioè rompe completamente da dove venivamo E diventa sempre più Cioè Che follia è Giusto ieri Uno dei più alti esempi di graphic design Esatto Cioè il lavoro di graphic design E qui Ci sono giochi comunque che Veramente si distinguono per questo aspetto Un altro che ci attira moltissimo Che Che vorremmo Abbiamo pensato di portare È Cuphead Se lo conoscete Che è proprio il concetto di graphic design Veramente Al di là di ogni immaginazione Eeeh No volevo dire Guardate regà Cioè Guardatela in alto Vedete la figura? Queste persone Molte grosse Fanno oscillare la cam I loro passi Fanno muovere la cam Cioè guardate che è Guardate la sopra Guardate questa inquadratura Cioè Eh sì Anche io penso che sia stupendo Staggol Infatti pensiamo di portarlo Sicuramente è molto difficile Però Oh 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 È quello che stavo cercando di portare prima Regà regà È quello che dicevo Guardatela in alto Guarda che è Ma guardate che posa C'è la Geisha Malefica Guardate che figa Ma guardate che figata poi Cioè con la luce Questa cosa Affuscata Cioè Guardate questo arredamento Tra l'altro tutto nipponico Molto giapponese Che già di fatti riprende con la Geisha Giusto ieri Eeeh abbiamo avuto una Una discussione Come dicevo prima Abbiamo parlato di un botto Eeeh abbiamo discusso del fatto che Anche nell'animazione Ma a questo punto In un caso In un gioco come Little Nightmare Anche in un videogioco Eeeh Si può parlare del concetto di regia Cioè il concetto di regia È spesso legato al mondo del cinema Giustamente Però Però Nel senso della cam Della maestria Delle inquadrature E della cam Si Dicevamo appunto Io pure dicevamo Ma È ingiusto che Si parli poco Di regia Nell'animazione Prendete per esempio Miyazaki Ora Vi pongo la domanda a voi Cioè nel caso di Little Nightmare Era un videogioco Ma si potrebbe in realtà Utilizzare Una categoria Del mondo del cinema Cioè guardate queste ombre dietro Il separe Guardate L'inquadratura È tutto studiato Quindi si può parlare Un gioco Talmente Eeeh Artistico Che si può parlare Di regia Di fotografia Di queste categorie Che sanno Che fanno Che fare col cinema Guardate e fare carne Sta divorando la carne cruda Porca puttana Mamma mia Ha preso E mi ha mangiato Qua è una specie di È puro cinema Si io concordo Cioè questa scena Un attimino Di ristorante Di Che ti fai Qua senza un attimino Proprio tutto sarà qui Eeeh Diciamo Qua senza appunto Per il fatto che Dicevamo prima Che è un gioco dove non ci sono delle risposte semplici Anzi il più che altro la risposta semplice è togliere la poesia Cioè bisogna comunque È un evidente problema Eeeh La cosa bella è che non ci sono risposte semplici Che però vengono suggerite Noi abbiamo visto i cuochi Abbiamo visto il custode Eeeh Questa scena raga è difficilissima Abbiamo visto il custode Che praticamente faceva degli insaccati con i bambini prigionieri E qua vediamo questi diciamo Eh grassi Eeeh Borghesi Da quello che continuo a cercare di entrare Di entrare Scusate ma è un'ansia terribile Ci sono questi personaggi che Divorano Eeeh Diciamo con ingordigia dei pasti Però il gioco suggerisce Eeeh Un lato macabro di questa Di questa scena no? Cioè sarebbe come potrebbe Beh ricorda tra l'altro l'inizio Uno potrebbe dire che magari mangiano carne umana Cioè perché Magari Esatto Ma l'abbiamo visto da dove veniamo La cosa che poi E' il come mangiano C'è questa cosa tipo Last Oppure di Mi ricorda di Eeeh Glattoni Esatto E' giustamente la La gola Guardate qua per esempio Io devo correre fortissimo Poi bellissimo Ritorna La cosa che ha detto il grampuno Nel livello della cucina Quando il grampuno diceva E' un mix di immaginari che ne creano Un uomo pazzesco Il grampuno prima diceva che E' una cosa molto proprio Della Infantile Ma quasi tipo Base Della paura E la paura Di qualcosa di Di piccolo Di fragile Di essere divorato Di essere mangiato E qua effettivamente La teoria del grampuno Che è evidente Io qui sono morto 40mila volte Questa a me è venuta Abbastanza facile Questa scena Ora la mi starò zitto Quando salirai Perché è troppo bella da vedere Il nomino Un calzino appeso nel tubo Lo notate questo particolare C'è un calzino bianco Ma guarda sti tubi Questa parte regà Ricordano i genitori maiali Della città incantata Eh quello volevo dire Di fatto quando ho detto Maimiyasaki Mi ricordano quei genitori maiali Sì bravo sono contento Poi lo stai con Lo santo mi legge nella mente Era esattamente quello Che volevo dire Di Miyasaki Che mi ricorda Qua quando sali Mi sembra Per me È una delle migliori scena A livello di regia del gioco No ma poi No la scena dopo Ancora meglio Però questa angolazione Adesso quando salirei La capiranno La gamba si sposta sopra E sembra tipo Che tu scappi dentro Una tavola Perché avrò stress Sì sì Io sto zitto Perché mi piace Però quando sali Questo è per me il top Qui è un percorso Tu hai preso il nomino L'hai abbracciato Adesso avendo preso il nomino Ha salvato Il fatto che tu abbia preso il nomino Ah no ma secondo me Ha salvato nel senso Che quello salva a priori quello Cioè Cioè tu non hai più bisogno Di andare di là Se avrebbe preso il nomino Ormai dai Merda questo l'odio Guarda che bella la faccia Che poi ricordano un pochino il cuoco Perché anche nella scena prima della nave Con quella cam che era lontana Abbiamo visto che anche questi personaggi hanno delle maschere Perché magari ho scontato qualche cosa Però non mi sembra Ma no Io c'ho una salsiccia qua Ma vabbè E' una salsiccia Ma l'ho vista Si voleva perdere Mamma mia che ansia a sto punto Poi da ricordarsi bene tutte le cose Per me qua è un po' un concetto di slalom Come il movimento Eh però in realtà a un certo punto Mi devi quasi andare addosso Per me questa è una delle scene più belle E poi ce n'è un'altra Sempre però con questi personaggi molto grossi Guardate il vino Che è bello Il vino che si Ce lo buttano addosso E si spacca Ma no Madonna che sfiga E ce l'avevi fatta I pezzi I pezzi Che però sono stati rovinati alla fine ovviamente No Questa differita che gli arriva La dimensione della sprippana qualche secondo dopo Bellino Dai che ci ritrovo Ah perché il vino è già caduto come me Qua per esempio Perché la cosa più difficile in realtà Sono le bottiglie di vino che capono Ti distraggono un botto In questo gioco è molto bello A livello musicale Che ci sono queste percussioni Molto tipo timpani Queste percussioni di botto No la troia Solenni Vai con i pezzi tu Se senti c'è questo tipo timpano Questo tamburo Molto Si si È in back Ciao Guarda ti sei perso il nostro attacco del reale Che ci ha fatto un'imboscata È stata una cosa molto tragica Ma siamo riusciti a batterlo Siamo crashati Non siamo crashati No no Ci hanno invaso Gli agenti del reale abbiamo combattuto Ce n'era uno che aveva la CA Abbiamo detto 17 Abbiamo perso un botto di tempo Io non riesco a saltare lì Forse perché non devo saltare lì Però io ricordo che devo saltare là Ma mi sembri No Lì torno indietro Si perché ci sono delle scanalature Che brutto Però mi sembra che non devo correre Una volta che sto là Che brutto Mi sembra che non mi cagano più Mi sa che dice a te Perché c'hai un po' la barba disordinata Questo mi prenderà No Grande Ma qua non devi imbiottare per forza Venditi tutto qua dentro Esatto Un pezzo fascino eh Non dirlo a me Eh si devo andare là Vedi Si nella grata Vediamo la rincorsa Con quadrato No guardavo dire Ah no non sei brutto tu Non ti stavo offendendo No non riesco ad andarci Si Un problema evidente La rincorsa l'avevi presa Vero? Ecco Anorismone tu hai mai giocato A Little Nightmare Così curiosità mia Allora Guarda questa che già mi vuole mangiare Sta stronza No 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 Eh levate 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 Guarda come vi mangia raga C'è tipo Che poi si ingoia tutto il braccio Oh è quello Sono Dicevamo Prima che Anorismone non c'era Che ci ricordano un po' Glattoni di Full Metal Alchemist Si fista la gola Mi piace fista Si fista la gola Bellissimo Tipica cosa tra l'altro Di un eurismone Secondo me Motivo di umanismo Si fista la gola Mi è piaciuta Questa esattamente Quell'idea Guarda sta qua Ah Comunque la espressività Delle loro facce È fantastica Con queste specie di pappagorgia Che hanno nella gola Allora qua La pappagola La pappagola Si rimosso tutte le parti Si è bugato Prova a fare option Ah ce l'hai fatta Ok E mo? Dovessi Rincorrere Secondo me è una questione di Secondo me è lì che devo saltare Di tempistica Questa è la strada Niente Ma tu non stai Oh aspetta Aspetta Vi giuro Mamma mia Il reale Dovremmo trovare una serie di insulti sul reale da dire Tipo Se Se Entra un nemico ti va bene E tipo Non so da l'ora Ma tu sei veramente realistico E io dico Eh Vaffan Reale Vaffanpuno Real Damnit E Ci avete suggerimenti per ipotetici insulti sul reale? Contro il reale? Difficile come domanda da fare a Non bannabili Non bannabili? Allora Ricordano forse i genitori di Chihiro In Speed and the way Eh l'abbiamo detto L'abbiamo detto difatti Sì Ti duro Sì Io lo faccio Lo faccio Continuamente Ma non è che devo andare di là Ah no Perché io da qua arrivo E A me pure ricordano loro Che poi Sono anche dei maiali tra l'altro Diventano maiali Di fogno Di fogno Di fogno non lo so Ma se no Di fogno maiali Lo uscerei Ok Non devo via salsicce e cose no? Ah sì Ma dimensional door? Eh ma non ce l'ho Perché l'ho già usato oggi Ma Per scappare prima da Da le guardie Sì Non ce l'abbiamo perché Ancora non abbiamo abbastanza subito Regà Ci sono arrivare E poi Non è che devo via Una bottiglia, le salsicce? Le salsine Ma Guarda Uno secondo me è fattibile Non so Stronzo Puoi provare a farlo più in salto? Cioè Non vorrei rovinarti il gameplay Però io penso Io penso che lo potrei fare Oh Nooo Ma come è possibile? Ma dire Però hai visto che Ce l'ha Che è fattibile? Sì Porco real Uno Porco real Mi piace sempre questo Ecco il modo Sarebbe intervenuto Forse se salti prima del bordo Non collidi con il muro sopra No Perché ormai mi sono schillato su Riva qua Qui c'è il punto del bug dove balla È un medico che balla il bug Ok Ok Ci sono riuscito Dopo sei anni ci sono riuscito Lo so io là Eh devo saltarci Lo so dico A livello di scenografia È folle È meraviglioso Anche questo è un portavivande alternativo Certo Ma ora c'è sempre fame Ma che può mangiare Non mangiare Ah 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 Little nightmare Un gioco di me Ma cosa? Guardate sto pesce Regà Guardate sti tizi Ora regà Tra poco c'è la cosa inquietante C'è l'angoscia La seconda scena più bella Guarda Guarda come il muro Come tocca il muro Ah tipo invisibile Sì La seconda scena più bella Per me la seconda inquadratura più bella Era quella della tavola E poi la seconda è questa che penso stai dicendo tu Beh è la fine del livello Io dico Quella Corre, corre, scappa Signorino Guardate sto pesce Mi dia una mano Dove sono? È di qua No, non credo Perché non è da Però perché non è da A destra A destra Ma io a destra di pesce Signovino Qua mi ricordo meno Mi sembra che devo andare più qua Comunque zi Non vorrei metterti ansia Cioè abbiamo fatto un record Di spettatori Siamo 26 spettatori in questo momento zi Ti credo No ti giuro Ti giuro 26 spettatori zi Se vuoi metto OBS Quindi mi raccomando gioca bene Sì Eh Ok Qui non mi ricordo Ah Forse mi ricordo Avevo visto due che non esistevano Oh Il granpuno infrange le barriere Greve No Qui devo utilizzare Se andare su di lui Boh Gli hanno lanciato salsicce Piovono salsicce Guarda perché ora Ora la scena è greve È una doppia crevata Devo andare là Però ora mi inseguirà un tizio Io dovrò saltarli addosso No 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 perché mi rimane là È baggato Vabbè Però era là Che figata comunque Che figata Cioè questa atmosfera Guarda mi pianto come lei ritorna sempre in questa posizione È veramente surreale Che ti risveglia Che si tiene le ginocchia Tipo Tipo il limite nella valigia Tipo sì Ma che poi è la classica posizione da tipo Sono depresso sotto la doccia Sono triste Quindi ti raccogli su te stesso Che poi è una posizione fetale No Che culo Ti ha schiacciato col suo peso Mastodontico Capito? Questa posizione fetale di protezione Che risponda là Comunque gli devo saltare addosso Costanzialmente Sì Dovebbe incastrarsi E vi sono godere A sinistra e a destra Esatto Bello Scivolata Ok Comunque ragazzi La musica È tornato lui È tornato lui È tornato lui La musica Era talmente inquietante Che sembrava Midsommar Rediariassene Se qualcuno l'ha visto Adesso se la vediamo cagare Sì Poi là Non so perché Per me è uno Mamma mia Mi scappati Guardate Che scenografia è Cioè I bagni Comunque riescono ad essere inquietanti Ok Mi ha mollato le cose che mi servono Che non ha mollato quello che per fortuna poteva mollare Ok Che bello lo specchio dove è Si si vede sì Esprimiamo sta stanza Ci sarà qualcosa Mi ricordo Mi ricordi? Oh io di solito rompo il cam Ma qui è tutto giusto Ma qui rompo il vetro Qui è giusto tutto Mamma mia Guarda che cosa Cioè Se uno Questa è una cosa che io ci ho messo sicuramente Ora non mi ricordo ma sicuramente Ci ho messo 20 minuti con la mia ram Cioè Rompere il vetro Non è una cosa banale Eh lui era un peccato È una cosa semplice Ma le cose semplici non sono banali Eh non sono semplici È la difficoltà Esatto Per me guarda io stai col ma ti comprendo Perché per me c'è questo videogioco è veramente perfetto È veramente il gioco dove alla fine parleremo Deremo la recensione Ma io già so e vi spoilero che io darò 5 su 5 e tutto Cioè non c'è una cosa che dico eh però qui poteva che? Poteva essere meglio dove? Sì Cioè è perfetto raga E ancora non l'abbiamo finito Lì c'è una madonnina Potrei rifare il percorso Per andare a rompere la statuetta La rompo? Si L'abbiamo fatte tutte L'abbiamo fatte tutte Dimmi che ora la porta del bagno è chiusa Adesso sai che faccio? Adesso è così Faccio una scelta difficile Ah ma forse dovrei prendere l'ascensore Voglio spoilerare il finale Il tirannosauro era clonato geneticamente Nooo E vabbè dai Magari qualcuno se ne deve andare a cena Almeno sanno come finisce Allora Guardate sta scena raga Sta scena è il panico Io già corro Questa è la scena più bella del gioco Questa è la scena più bella del gioco Qui morirò diverse volte Soprattutto perché quello che non si sa E' che qui c'è una curva Uh Non è qua però dopo Il delirio raga Qua c'è la curva Questa è l'ultima marcia Meno male che mi ricordava che era sta cazzo di curva raga Guardate questo effetto Mamma mia No mi sta scivolando tra l'altro Mamma mia ce l'ho fatta ad un colpo E mi stava scivolando il pad Tipo c'avevo un angolo di pollice Io sono totto folli Che è una città Che bill Mamma mia sta scena che è Questa trovata della marcia Dei personaggi obesi Uno sull'altro Che si accalcano E la scena migliore del gioco Cioè per me quella scena Ti mette poi C'era un effetto musicale Di ansia Ma poi meno male che mi ricordavo il percorso E che bisognava saltare Beh perché vi giuro Al momento Cioè mi ricordavo tutti gli ostacoli Io l'ho fatta one shot Questa qua Il custode sono stato un botto di anni A finirlo Tengo fame Questa scena è molto importante Quindi stiamo tutti Guardate i disegni Quello può essere una rappresentazione del posto dove stiamo Già Questa scena è top Questa scena è top Per chi non l'avesse capito ha mangiato un nomino Quindi in qualche modo Six Sta Prima abbiamo visto che mangiava la carne Poi Eccola Eccola Poi fluttua Praticamente Six Cioè E' questa Anche il personaggio protagonista Eccola la statuetta Divorata dalla fame Inizia a diventare pure lei Sempre più lucubre Sempre più magabra E' meno rincuorante Di quanto uno ci si può aspettare all'inizio E questa scena E' un climax Cioè addirittura Mangia tipo L'NPC support Lo divora E' come se tipo Il male di questo posto Inizia a insinuarsi anche dentro Six Mamma mia Mi è presa male Guardate quell'occhio Guardate Guardate quella tappezzeria dentro All'ascensore Ma dovrebbe essere finita Esatto Abbiamo finito La zona ospiti Si chiama la zona ospiti Si può Diciamo immaginare Che stiamo inseguendo La Gensha Che probabilmente Guarda Se ti va bene Estendo questo Il capitolo Il capitolo Inizierei Per fare due due Inizierei io E te lo passerei Si si Possiamo anche dire Non è spoiler Perché Chi non ha Non penso che giocheremo Al gioco per cellulare Che abbiamo menzionato prima No però molto bello In Very Little Nightmare Abbiamo detto che si Si è ambientato prima di questo Si vede Correggimi se sbaglio L'entrata di Six Dentro questo posto No No Si vede lei che cade in mare Ok Però Siccome Però è il prima Però è su terra Mi veniva da dire che tanto Non si Non si potrà sapere Quindi non è uno spoiler Non è che poi viene detto Però tendenzialmente questo posto Come abbiamo detto Che i nomi dei boss Si ritrovano nella loro scritta Eccetera Io il nome del posto lo volevo dire alla fine Ok Allora niente Ragazzi scusatemi Eh no perché c'è un senso dirlo alla fine Il nome del posto Guardate ragazzi I manichini Guardate i Cosi Cioè I quadri I dipinti nelle pareti Guardate qua Questo l'abbiamo notato sin dall'inizio E' pieno di quadri Guarda con l'occhio Come se ti guardassero Verso il basso Guardate ste stanze Si sente un pendolo Qui bisognerà prendere una chiave Gli occhi sono costanti Però cambia l'angolazione della pupilla Sì sì Guardate qua I quadri Cioè una delle cose che mi piace di più E' pieno di quadri Sono un botto diversi Sentite la musica Perché la musica E' lei che canta Guardate là Guardate là Non so se farmi catturare per far vedere come ti cattura Per me Oh no è carino Mi faccio catturare ragazzi Se c'è una ragazza Manco The Grudge Cioè l'inquietante Guardate che figa Cioè ci solleva E' come se lei emanasse ombre Lei è magica Lei ha questa cosa che tipo è collegata alla dimensione delle ombre Ha una maschera Da Gensha bianca proprio E quindi fa contrasto tra il fatto che lei tipo di elemento ombre e la sua maschera pallida bianca Però con questo canto ha anche qualcosa di materno questo canto Per questo è tutto inquietante Tutto Senti il cuore C'è una statuina Guardate che si specchia in uno specchio rotto No no lei si specchia in uno specchio rotto Ah Il vaso con l'occhio Che film era uno che c'è una scena simile che si specchia Giapponese il film Suppongo horror Horror Ah e The Ring Satako Il filmato di The Ring Il filmato maledetto No Sì sì Il filmato di lei che si specchia Vecchio vecchio Film horror Ma film giapponese vecchio o film horror giapponese vecchio? No Io ho fatto quel rumore Non ricordo Ho fatto quel rumore e lei è sperita Guardate quanto è inclinata l'inquadratura ragazzi Cioè guardate quanto è inclinato questo posto E la cosa bella di questi continui manichini che ti ricordano lei E non sai mai chi è E' un continuo questo riferimento del manichino che tra l'altro L'abbiamo fatte tutte le statuine Stagol ma non so magari adesso ci ragioniamo un attimo Però ti posso dire che comunque anche se non è quella la risposta In Ringu c'è comunque la madre di Satako che si specchia Grande Tanto queste non contano come sono La cosa meravigliosa è che l'idea della silhouette al buio E' un'altra cosa tipica della paura infantile Nel senso al buio il mostro cioè quella cosa del Guarda qua Niente offese su Albano Bellissimo cantante E' pazzesco come la figura notturna della silhouette Capito del che prende forma e l'animare l'ombra Che fai ah e il manichino ti ricorda quel Qualsiasi manichino può essere vivo Cioè alla fine Lei è un manichino vivo Si è come qualcosa Anche il fatto che lo specchio sia spezzato Ti dà il suo personaggio la dimensione che lei è tipo rotta dentro Guardate questa scena raga Guardate questo ambiente Specchi rotti di nuovo Di fatti Specchi rotti ovunque Io farei questo posto qua Esatto Cazzo E ti lascerei andare Ero convinto che fassero il gentile reale Oh 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 Mi sta seguendo fortissimo Eh devo andare là sotto Qua è un po' anche cajaco di The Grager Mamma mia Cioè guarda come ti spegne il fuoco È una cosa crevissima Poi questo personaggio è bello Perché rispetto agli altri nemici Lei in qualche modo ha una sua femminilità E anche una sua eleganza Ha un portamento molto elegante È raffinata a suo modo no? Guarda come te segue Ce l'avevi tipo fatta Mi ha sollevato di parte di mezzo millimetro Vuoi fare tu? No no finisci questo Ma perché ti volai lì? Perché secondo me è un po' prima Guarda io faccio questa cosa solo per farvelo vedere E accendo il fuoco appena ci sta la cosa Perché il bello è come ti spegne il fuoco Lei di colpo Qua se vedetelo Guardate come arriva Ma perché non scendi? Io sto tremendo La cosa che diceva Puno prima A livello estetico Prima Puno diceva che i manichini creano il dubbio che sia lei Ora qua è effettivamente trattato a livello diretto Perché ci sono le ombre dei manichini E poi lei spawna tra una delle varie ombre dei manichini Se osservate Bravo Ce l'hai fatta Grande Guarda quanti manichini Vai dove adesso? Ok It's buffo time Anche perché qua Guardate qua il paesaggio Il paesaggio intendo l'ambiente C'è una cosa spaziale Guardate questi specchi L'accendino L'accendino di C'è un rumore Come quando sei in una casa vuota Guarda il vento Il vento entra dentro tipo la casa Guarda Guardate questi specchi Guardate le ombre Cioè la cosa bella è che Al buio sei al buio Con l'accendino hai l'accendino Che però crea ombre E quelle ombre sono super inquietanti Grazie mille Questa stanza Questa stanza nei videogiochi Guarda i due occhi È talmente grande Che ti sa di stanza Dove c'è qualcosa che non va Ti ricordi dove devi andare? No Ah Non ti dico niente E poi Sapete anche Croa89 ha fatto un video Che nei videogiochi Ci sono delle stanze Che richiamano Che entri e dici Ah qua sicuramente mi fotte C'è il boss Esattamente questa è la sensazione qua che ho Facciati la luce Allora non devo andare qua Io per fortuna ho una memoria pessima Quindi è come se lo stessi rigiocando Quella sembra lei Minchia Non riesco più a capire Guardate ragazzi c'è pure i capelli Sono uguali Cioè veramente Non riesci mai a capire dove cazzo sta Ah Semplicemente al solito Tutta la mia odieria sul boss è una puttana Ti ricordi che succede ora? No Te lo dico? Non lo so Perché mi vuoi dire le cose? Cioè sembra che muori Te la voglio dire L'uolo dei canguri L'uolo dei canguri Allora Cosa succede? Vediamo qua c'è qualcosa No Hai capito dove siamo? Ragazzi questo tra l'altro non poteva mancare la follia giapponese Ragazzi un particolare Tutti gli specchi Anche perché è giapponese il gioco Tutti gli specchi che abbiamo incontrato Sono tutti rotti Ma questo è uno specchio intero Notate questa cosa È l'unico specchio intero che tra l'altro è lì sopra un cuscino Allora vedi che era vera la cosa della stanza Che dicevo prima Che cosa? Che dicevo che questa mi sa di stanza È la stanza Guardate come ci attende regà La girata di spalle ci attende Cioè proprio quando sei tipo GS alto che te lo puoi permettere Ti ricordi come si batte? Di questo modo Occhio Lei si poteva specchiare degli specchi rotti perché in realtà non vuole specchiarsi Si era la sua memoria Però uno specchio intero la distrugge Perché la In qualche modo Cioè Vedersi Tu non puoi stare nell'ombra Specchiarsi è la sua debolezza Sia nel senso che lo fa Sia nel senso che il suo punto debole Non è particolarmente difficile questo boss Però io lo lascerei andare proprio tutto sulla narrazione Perché ora ci sarà il gran finale Cazzo Sono lontano Vediamo dove mi arriva Uuuu che effetto Le percussioni aumentano Le percussioni aumentano Oddio Mi ha ucciso Faccio che era tipo l'ultima sfida L'ultimo hit Eh sì esatti sì Il suo posto è giusto sono sei Se vi piacciono le percussioni vi riproponiamo questo brillante brano di Tullio De Percopo Loll C'era la stessa ansia Di quando tipo Vedeva il re leone E c'era tipo Mufasa che diceva a Simba Sì buongiorno anche tu sarei un faggiano Madonna mia che responsabilità Che puzza bellissimo Che puzza bellissimo Assurdolo Assurdol Assurdol Riproviamo Little Nightmares Little Nightmares Il primo gioco sviluppato e prodotto interamente da Torre di Va Bene C'è è pazzesco Lava dice assurdo perchè dovete torre il leone Ma è fantastico Ma è fighi gli effetti pure di come si frena Ah posso fare? Questa cosa è fighissima come molti iniziati a girare attorno dovrebbe arrivarti alle ore ottima Allora La prossima volta Si arriva A ore 3 Ore 4 Allora domani Anche a ore 3 A ore 3 Ore 4 O O O O O O O Carlson Grazie a tutti. 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 Scusami, io so che sono poi un pignolo sui titoli di coda. Possiamo parlare e scialla, ma sentite le musiche. Cioè, è un buon momento per sentire la host. Sentite per esempio i richiami della nave, cioè il... come si chiama il... come si chiama il... non il claxon della nave, però insomma... lamiere metalliche... no, no, i nomi non sembrano giapponesi, minimamente effettivamente, sembrano tutti i nordici. non è giapponesi... non è giapponesi, difatti, però... mi sembra molto più il nord, perché... non è giapponesi... non è giapponesi, però la produzione è giapponesi, scusa, mi sentite il diseño dal bandai. la produzione, la distribuzione, sì, il graphic design, mi sa che non è... sentite che qua si sente questa specie di... di Carillon... cioè... queste cose super metalliche... queste cose super metalliche... queste cose super metalliche... questo buio che la banda in arco. Il gioco è svedese, della Svezia. Svedese, mi fa. un prodotto sviluppato da Tarsier Studios. che è della Svedese. Ah, so contento che ti sia piaciuto Stegholm, cioè... calcola noi adesso... non penso giocheremo a DLCO, ti posso portare a DLCO. Eeeee... no, 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 ora decidiamo, non lo so... cioè... probabilmente vorremmo anche mangiare, non sappiamo se... eh... fare i DLCO... abbiamo un dubbio, magari sentiamo anche voi... ci sono dei DLCO del primo, e c'è un DLCO del secondo... poi cosa preferite? A DLCO del secondo? uno solo... eh... ma non lo facciamo oggi perché... no, voi cosa preferireste? che giocassimo ai Little Nightmare ufficiale e poi facciamo il DLCO, o preferite il primo, DLCO del primo, secondo, DLCO del secondo? esatto. che preferite voi tendenzialmente? che oggi facciamo... eh... perché l'idea è giovedì prossimo fare Little Nightmare 2, iniziare con Little Nightmare 2 e... e dopo Little Nightmare 2 Giocare del primo dice... è Gerra... vediamo... stai colma... tu che dici? vuoi che chi è online... dice di giocare ora... cioè io lo farei eventualmente... maniamo... mi piace che lo dice a bassa voce... sto sapendo che abbiamo un microfono potentissimo... in Spagna... sì... possiamo mangiare... possiamo iniziare a giocarlo... posso mettere a mangiare... possiamo mangiare... mentre uno... vedi che c'era il belgio... c'è scritto belgio... così ecco... qui c'è tutto... io dovrei assentarmi... quindi voto no... uno contro uno... cioè... tra quanto stai come lotta all'ultimo sangue... ci vorrebbe il terzo... quello che spacca tutto... la bilancia... io sarei dell'idea... siccome dobbiamo anche mangiare... io sono dell'idea di fare giovedì prossimo... e Little Nightmare 2... e per me possiamo anche... non fare per forza tre ore... e andare anche avanti... poi possiamo giocarlo... tranquillamente... e... e poi farci due DLC... in maniera tale che se avete occasioni... vi vedete bene le cose... e... ma... si... ragazzi... eh... per noi... cioè... io non ho... non ho preferenze... lascio scegliere voi... alcuno... che dal lato mi piacerebbe... però... tra stanchezza... mi sembra... mi sembra... one shot... one... one stop... ah... un po' onesto... ah... ho letto... mi sembra... un po' onesto... ah no... era one stop... che era one stop... sicuramente significato... invece era semplicemente... eh vabbè... perché sai cos'è... perché... oggi... mi piacerebbe farlo... però... eh... queste sono circa... eh... mi sono perso tutto... quindi... mi dispiace... perché la questione è... eh... che... questo gioco... ha circa... cinque ore di gameplay... se non lo avete mai giocato... avendolo già giocato... saranno quattro ore... comunque c'è una sua lunghezza... invece... eh... l'altro... eh... la DLC sono... tre stanze... non cinque... ma la lunghezza del gioco... è circa la stessa... si... nel senso... la lunghezza del gioco... in realtà non è la stessa... ma è circa tre ore... per cui... sì... dovremmo praticamente... inizieremo... e finire verso mezzanotte... mezzanotte e mezza... per cui... io la trovo più difficile... parlo... cioè... se comunque vi è piaciuto... magari... ci diluiamo... questa bellezza... e ce la... ce la giochiamo un altro po' nel senso che magari... finiamo tutto... poi giovedì... finiamo pure l'Internet 2... e siamo di nuovo qua... a giocare... a... a uno... a fare le DLC... in un altro momento... in maniera tale che... eh... cioè... la cosa migliore in realtà... sarebbe fare giovedì prossimo... la DLC... però... capito... la DLC... è molto bella ragazzi... diciamo che... da una parte... insisterà più sui rompicapi... insisterà... possiamo fare una cosa... però non lo so quanto sei d'accordo... o possiamo farne uno... però spezzarlo... mi dispiace... preferirei fare tutta un'unica cosa... io farei una cosa... giovedì prossimo... magari iniziamo pure prima... oppure... non lo so... allora... per oggi... abbiamo fatto Little Nightmare 1... adesso... su giovedì prossimo... ci... ci pensiamo... possiamo anche fare... random... mercoledì gaming... di nuovo... e facciamo un mercoledì... ci facciamo una DLC... tranquilla... e giovedì... giochiamo... con il 3-02... dovresti rigiocare a questo... per dire... da un momento di pochi... invece... già... che si è assentato... non lo so... adesso te lo ritrovi comunque... online... si... no... poi... pensiamoci un po' che... è inutile parlare... esatto... quindi adesso... io chiuderei... farei una... diciamo... qualche cosa... si... aspetta... e poi voglio lasciare tutto andare... perché mi sa che... c'è pure una scena post credit... ah... forse si... c'è... vediamo la scena post credit... beh... devo dire... comunque... è sempre bello... rigiocare a Metal Gear Solid... grande gioco... mamma mia... mi è piaciuta molto... la parte con... Liquid Snake... che si scopre... che è una game show... non si rispettava... la prossima volta... non ti assentarti... Gerrack 5... eh... doveva portare fuori Pedro... che... tra l'altro... è un egittologo... Pedro... si... si... ne sa un botto... un po' come stai con il Meso Ronaldo... sono quelle cose... delle persone... nate con un destino... si... questo brano che cos'è... una della dama... della singola... in cui... non ci troverò... un'altra... non... ho idea... un'altra... la questa... un'altra... è una... la... la questa... Quindi abbiamo sentito già raff. Altro frillo di animali, se ne ho reso. Co-founded by Creative Europe, prodotto di European Union. Guardate questa scena. Che meraviglia è. Guardate questo giallo tra l'altro. Il giallo. C'è questa torre un po' verso l'altro. Che poi sembra un faro, un canino. Si può vedere un faro, si può vedere una fornace, si può vedere una ciminiera gigante, poi le rocce. Tutto quello che si è sviluppato per forza di cose, guardando questa cosa, è sotto terra. Sotto la superficie del mare. Che però noi a un certo punto usciamo. Quindi vuol dire che riemerge. È una specie di navi sottomarino. Perché a un certo punto riemerge, non tipo un sottomarino, riemerge tanto. Perché la gente sale ed è immenso. Questo luogo io metterei grande di nuovo. Mi tabbi? Allora, fammi uscire. E' il tempo che mi dà di nuovo i comandi. Comandi? LOL. LOL. Come smettile? Ok. Andiamo. 3, 2, 1. Un saluto di buon D. Un saluto di buon D. Allora, allora, io diciamo che voglio dire... Io volevo dire la cosa del... Vai, vai inizia tu, inizia tu. Questo luogo, molto bello. Finalmente abbiamo portato Little Nightmare 1. Io penso che la tematica centrale sia la fame, in questo caso. Difatti la questione della fame è un qualche cosa che lega tutto il... L'arco narrativo sia di Six che del gioco. Tant'è che questo luogo, di cui si sa molto poco, ci sono molte teorie di loro, le potete andare a vedere anche su YouTube. Molti cercano di spiegare, sono teorie. Insomma, nel sito della Namco, di Little Nightmare, si può trovare qualcosa, ma fino a una certa. La questione è che questo posto si chiama Le Fauci, di fatti. Perciò, dicevo, è interessante, ma alla fine a maggior ragione, vedendo Six che se magna la dama, la questione delle Fauci è questo luogo immenso che è Le Fauci, dove apparentemente prendono bambini e mangiano bambini. Questa è l'idea che uno si cerca di fare. Poi, chi siano i nomini, per esempio, non si sa. Su questa cosa si saprà di più, magari... Il DLC è più incentrato sui nomini che sono più dei support. Qui ci sono, ma non è che ti aiutano niente. Mentre nella DLC è interessante proprio la questione dei nomini. Quindi è molto, secondo me, la questione della fame, l'idea della fame. Perché poi lei, alla fine, mangia tutto. Cioè, piano piano la sua inumanità, piano piano viene anche fuori, tra virgolette, in cui come va mangiando, però pur di sopravvivere, e diventa questo buco, cioè la fame, secondo me, è evoca, quel buco nello stomaco, che tutto risucchia. Cioè, è la fame, è una cosa che non potrà mai essere saziata. E questa cosa è un continuo in tutto il gioco. Si continua a sentire. Questa cosa crescente, che la fame aumenta, tant'è che mangerà qualcosa sempre di più grande, tra virgolette. Dal pezzo di pane, al pezzo di carne, al nomino... Cioè, capito? E a un certo punto, fino a che finisce con la dama. Sì, secondo me, su questo punto, sono d'accordo, nel senso sia, sul fatto che potete trovare queste spiegazioni. Però, tendenzialmente, la bellezza, secondo me, di questo gioco, di questo tipo di giochi, non soltanto Little Nightmare, è la questione, appunto, di riuscire a vedere, intanto, che cosa ha significato per voi, e poi, tendenzialmente, riuscire a provare, a darvi delle spiegazioni da quello che avete visto, che avete giocato. Cioè, non è un tipo di gioco dove dice, ah no, però non è esattamente così, perché Six in realtà aveva questo livello, e quindi è successo così. E dice, ah sì, è così, sì, è così, ho ragione io, è stupido, perché è un gioco sull'onirico, quindi che cazzo di significato ha dire che ci deve essere assolutamente una soluzione definitiva schedata. Detto ciò, si possono dare delle interpretazioni, così come tutto in realtà dovrebbe essere così nell'esistenza. Secondo me il tema della fame è fondamentale, così come quanto altrettanto fondamentale, sebbene apparentemente è più banale, più tipo inflazionato, è in questo gioco il rapporto tra l'ombra e la luce, che non vuol dire che l'ombra e la luce siano bene e male. Teniamo come prospettiva semplicemente due elementi, che sono contrapposti, però senza legargli troppo delle questioni morale, eccetera. La, come dicevamo sulla fine di Little Nightmare, sembrerebbe in qualche modo, in questa struttura dove i bambini vengono tenuti prigionieri e uccisi, sembrerebbe in qualche modo questa, le fauci sembrano gestite da questo personaggio della Gensha, che si chiama la signora. Lei sembra praticamente quando tipo utilizza il potere per bloccarti, per fermarti, o anche come tu la uccidi l'ultimo scenario, quindi lo specchio di luce e la zona d'ombra dove lei in qualche modo transita. O in generale tutte le creature che sono o custodi o inservienti o sono al servizio della struttura fauci, sono creature che, diciamo soprattutto nella fine, soprattutto la signora, che vivono nell'ombra. Tendenzialmente l'oscurità in questo caso è contrapposta quando tu esci dalle fauci, che comunque è appunto sotto il mare e verso le profondità. Dalla scena finale dove si apre la porta e questo mare di luce dorata riesce comunque a rappresentare il fatto che Six finalmente è libera e quindi è in qualche modo la prima bambina prigioniera, la prima, non si sa se è la prima, però in qualche modo nel gioco dirà la dimensione di essere finalmente in superficie. Quindi tu emergi e vai, diciamo, come lo specchio distrugge la geisha, alla fine la luce finisce il gioco. Per il gioco è tutto. Che però la cosa interessante è che parte dal buio e la più profondità del mondo, nel senso parte delle profondità delle fauci per poi andare verso un emergere, verso il sole, dove però lei mangiando e fagocitando la dama, la signora, lei si farà capo e carica delle ombre. Esatto, si potrebbe quasi... Lei addorbirà le ombre di tutti. Si potrebbe tendere, cioè magari potrebbe essere, come diciamo spesso, dico spesso in questa trasmissione, però è inevitabile. Uno potrebbe dire questo è overthinking, cioè metterci sopra delle cose che magari non sono letterali, non ci sono, però secondo me, quindi secondo me la cosa più, diciamo, logica da dire è che appunto in qualche modo Six assorbe il potere della signora. Grazie a questo potere, come diceva Puno, non ha più paura di essere assorbita a sua volta, divorata, mangiata, dilaniata, cioè assalita dai ciccioni, mi dissociano, nel senso, le persone di sovrappeso, e tendenzialmente loro, gli ospiti, gli vanno tipo addosso, lei assorbe la loro vita, quindi in realtà l'oscurità è come diciamo il potere che permette di assorbire la luce vita dei personaggi. In qualche modo lei li risucchia, questa cosa in quanto signora ha diciamo il potere anche di poter aprire la porta, in un certo senso. Tra l'altro non è che gli risucchia la luce vitale, la cosa interessante è che risucchia di questi ospiti l'ombra vitale, in genere la luce associata all'anima vitale, mentre lei risucchia l'ombra e sono fatti di ombra e questa è la cosa. Si sarebbe da dire che uno potrebbe poi, questo in realtà non è tanto per film che questo in realtà è abbastanza il primo passo, poi uno potrebbe dire che tendenzialmente questo non è, sto dicendo io, però se uno lo leggesse solamente come immaginario puro, allora potrebbe dire come immaginario puro, cioè secondo me da una parte si potrebbe vedere con il fatto di Six che magari viene identificata come una bambina in un certo senso i bambini sono divorati e torturati e loro invece diciamo sia gli ospiti, sia la signora, sia gli altri sono non soltanto per dimensioni ma sono in qualche modo il mondo degli adulti e il mondo dei bambini che non è il mondo degli adulti solo per thinking, però si potrebbe cercare di interpretare anche il fatto che in qualche modo lei, mentre gli altri bambini rimangono pietrificati, rimangono passivi, rimangono sconvolti e spaventati o fuggono, lei con l'atto di divorare in qualche modo diventa parte, accetta diciamo di essere parte di questa struttura incubo adulto reale, ma è proprio per quello che riesce a uscirne, riesce a uscirne accettando la logica si potrebbe vedere in qualche modo anche una sorta di metafora, di allegoria del fatto che lei viola la sua purezza di bambina facendo, accettando l'oscurità che alberga dentro di sé, accettando diciamo il male, iniziando a diventare anche lei male e questo accogliere il male dentro di sé la rende un po' più adulta al punto tale da non aver più paura cioè si potrebbe vedere nell'ombra anche una metafora della paura e nel cambiamento di Six un cambiamento di non essere più soggetta alla paura di quella struttura, però questo è over thinking, cioè questo non è nella trama per me io non lo trovo nella mia domanda è come tu leggeresti il lento cambiamento di Six, cioè se tu dovessi articolare perché Six cosa succede? tu come la butteresti? per me è perché la questione della fame cioè la questione della fame che vuol dire che nella questione della sopravvivenza rimane sempre la questione della fame, però la sopravvivenza è questo diciamo tendere a diciamo l'accettare la cruda e nuda realtà della vita e della diciamo della maturina nel senso di cinismo cioè non è una bambina tipo ah no io voglio le bambole e a un certo punto squarta la gente e quindi in qualche modo la fame è anche una metafora della crudezza che però qual è però la fame non è la metaforazione però la questione è che quella corruzione non è una corruzione perché qual è il problema di perché non è una corruzione perché e perché non è la questione della fame come metafora perché significherebbe che quello è il mondo che ti viene dall'esterno e tu sei costretto a scendere al cinismo mentre il cinismo della fame è un impulso che viene già da Six lei ha fame e quella la cosa e la sua fame crescerà per cui per me quella corruzione non è una corruzione poiché già nel seme di Six cioè Six fiorirà con la fame che diventerà sempre più grossa se ascolti quella fame e se vuoi sopravvivere e perché vuoi perché hai fame diventerai necessariamente così per certi versi andando verso un cento tipo di percorso se non segui poi quella fame no cioè la fame e anche la voglia di desiderio la fame è il da una parte anche questa è una lettura giusta la fame è la voglia di sopravvivere io dicevo che comunque potrebbe essere anche Six in qualche modo è sempre Six oppure io diciamo dalla lettura che do io è che è diciamo la il suo poi prendere l'oscurità portare il carico dentro di sé dell'oscurità della Gensha è in realtà dal punto di vista estetico quello che rappresenta simbolicamente il fatto di dopo come succede in molte cose di l'immagine infantile dopo aver vissuto in questa distopia di oscurità orribile l'oscurità l'ha impregnata l'ha corrotta e quindi esplode la sua corruzione e a quel punto non ha più paura di nulla perché lei ormai però non è che diventa la nuova signora usa questa cosa per uscire fuori ma il punto è che la cosa qual è è una questione perché lui dice ma di fatti non penso sia stata corrotta dal mondo Six è nata con quest'ombra dentro che ha deciso fino ad una certa di seguire e quindi si corrompe non è dovuto al mondo attorno a lei ma ci si potrebbe chiedere anche attraverso le foto i quadri sono simile corruzione interna non è anche avvenuta da altri personaggi secondo me ma il punto è la questa ad esempio il dlc ma perciò io sto dicendo che per me non è una questione di corruzione perché non è che un'ombra che lei ha dentro che poi ha deciso lo so visto anche perché messo tra virgolette appunto deciso fino ad una certa di seguire e quindi si corrompe però il fatto che lei non decide di seguirla perché lei mentre tu giochi si spengono le luci e lei muore di colpo per sopravvivere lei deve mangiare cioè la fame è l'unica cosa che la tiene in vita è potente e tenere in vita è quasi una volontà di potenza terrificante cioè nel senso è proprio per poter essere in vita e devi essere ombra ed è perciò dico non c'è una corruttibilità perché non c'è una purezza all'origine perché già l'istinto vitale della sopravvivenza genererà questo poi come usi questo estinto di fame è un altro punto per sopravvivere te per farci i soldi per il meccanismo delle fauci di come non si sa o per godere del puro cibo è un altro punto però il punto secondo me è proprio quella cosa base di quasi un'esistenza che già di per sé un little nightmare nel senso della fame come questione originaria la domanda per me è l'esistenza la domanda l'esistenza è desiderare e desiderare è la fame cioè è quel puro voler vivere è la fame se poi non mangi cioè se non hai più famosi io non sono c'è verifici allora ovviamente in real sono d'accordo nel gioco secondo me no cioè nel senso ma ci sta io la tua lettura l'apprezzo però secondo me in realtà la fame di six non è tipo a perché è questa l'essenza e la natura delle cose secondo me è proprio la lettura che io dò è quella della corruzione crescente c'è il fatto di six che nasce comunque in un certo modo come il mito di un uovo che si schiude c'è un pulcino pure in questo caso la valigia secondo me invece c'è un legame progressivo di oscurità che viene inoculata cresce ed esplode alla fine e potrebbe cioè se si fermasse il gioco fino a lei che assorbe le ombre in realtà la mia potrebbe avere pure senso quello che dico però in realtà è ancora più complesso nel senso che usa questa cosa per poi per ottenere la libertà però è l'ultimo però secondo me c'è una progressività che non è soltanto ti aggrappe la fame perché quello che hai secondo me questo posto però magari riuscirò a spiegarmi meglio anche nel dlc è una cosa dove i personaggi non sono quello che sono i personaggi diventano quello che sono nel senso che il posto in realtà è vivo e si insinua dentro la loro carne e questo non ha riguardo solo six riguarda anche la geisha riguarda anche il cuoco riguarda le maschere quindi in qualche modo si evolve nel gioco sì sì c'è un'evoluzione quello che intendo è che per me lei non parte da una necessaria totale purezza perché intanto c'è anche la parte prima very little night perché diciamo che rispetto all'altro all'altro gioco però è proprio all'interno del meccanismo e qual è la paura perché il punto è la paura infantile anche qua il fatto che non finisca bene ma neanche male cioè come finisce cioè lei è scappata sì ma quale prezzo il punto di quest'idea del che nel nightmare del bambino parte questa cosa secondo me è importante diciamo che secondo me la tua il tuo pensiero è anche è giusto nel senso che è una cosa una componente importante perché la fame in qualche modo vedendo tutto questo quello che c'è attorno che un continuo divorare la fame fa da bussola questa forza primordiale selvaggia per trovare la via della 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 salvezza nel senso che avendo perso tutto quantomeno rimarrà la fame che ti guida in una in un cammino che magari ti porta poi anche a non riconoscere più il personaggio quindi comunque non è che non è che non accetto questa lettura semplicemente secondo me è una componente importante però ci sono bisogna anche vedere quale fame perché ci sono fame e poi nel senso c'è una fame ancestrale secondo me nel senso la scena del nomino che le porge la salsiccia signorina la scena del nomino che le porge la salsiccia la salsiccia lui lascia stare la salsiccia se magna il nomino dal lato uno può dire è una scelta ma l'ha scelto o semplicemente si avventata perché lei si avventa non è che fa tipo vabbè no scelgo lui il punto è perché sceglie lui e questa è la cosa che non è che lo sceglie realmente si avventa perché secondo me una fame più ancestrale che è una fame di sopravvivenza che direttamente fa tabula rasa su tutto che è il problema delle fauci poi perciò dico è un tipo di fame però secondo me è un tipo di fame secondo me si potrebbe dire che questa scelta poi di mangiare lumino il nomino in realtà si rega pure questo archetipo che sto cercando di contrapporre alla fame è quello della corruzione no secondo me si potrebbe cercare di vedere anche il fatto che siccome tutto in realtà si impregna e si evolve è come magari uno potrebbe pensare che lo stessa cosa che ha portato la signora diventare la signora nel senso che in qualche modo quella corruzione crescente è come se il mondo ti stesse chiamando a diventare parte di quel mondo e quindi in qualche modo la fauci in quel momento sta trionfando su six mentre in si apre la porta six non rimarrà non diventerà la nuova signora ma deciderà di andare fuori secondo me c'è anche si può leggere non vuol dire che è così perché ti ripeto non c'è una risposta però secondo me si può leggere little nightmare una corruzione però io faccio e la cosa per cui non concordo sulla questione della corruzione è che quelli che non sono corrotti sono morti questa è la cosa solo quelli che sono vivi sono tutti corretti ma perciò dico allora la corruzione è la vita stessa e perciò dico non c'è corruzione l'unica maniera di salvarsi per non essere corrotti e morire c'è chi la vita è la fame perciò dico in realtà chi è vivo che poi nella vita decida uno di fare le fauci o decida di uscire non importa il punto che la vita stessa col puro atto di esistere già fa fuori altri questo è la cosa secondo me è forte e lei contrariamente altri che non si ribellano che fanno le cose direttamente ascolta quella fame ascoltando quella fame farà fuori anche gente farà fuori anche il nomino e il nomino è simbolico perché non è solo divento malvagio ma perciò dico una fame ancestrale che fa fuori qualsiasi cosa in un divorare in quella viene meno la logica del no va bene dai proviamo a convivere quella puro istinto di sopravvivenza che però è ancora più ancestrale dell'istinto di sopravvivenza che sembra biologico mentre veramente ancora prima per certi versi per me e quello è esattamente la cosa la scelta è tra seguire la fame o non seguire la fame se non segui la fame muori se segui la fame sopravvivi il punto è che sopravvivere è seguire la fame e seguire la fame sempre accettare l'ombra che poi come si declina l'ombra un altro metaforicamente in questo seguire perché la fame sia la forza primordiale ma anche tipo l'accettazione diciamo cinica del diventare adulti cioè nel senso allora questo no però volevo dire un altro argomento anche l'ultimo nel senso poi così ti lascio dimmi se siete d'accordo però il little nightmare secondo me sarà facile cioè per esempio ripeto un conto è qual è il significato del gioco in senso proprio risolutivo che non è questa la mia intenzione sto cercando di dire delle sensazioni che mi sono venute in mente giocandolo sia la prima volta che la seconda una sensazione che ho avuto che come sapete in torri di va bene trattiamo molto questo tema della dell'immaginazione dell'infanzia e di qualcosa che è sempre assediato dalla dalla realtà e allora oppure voi avete tirato fuori la chat tirava fuori la città incantata la magia che si spegne la magia è reale allora secondo me una cosa che mi ha toccato è quando diciamo six poco una scena bella è quando lei c'è la scena della nave e lei praticamente sta è prima della stanza degli ospiti prima della scena per me è meravigliosa allora io ho un'interpretazione che do a quella scena dentro di me che sembra praticamente in questo gioco l'orrore non è un orrore solamente appunto di un mostro solamente di qualcosa di soprannaturale di paranormale sarebbe stupido no? secondo me c'è un orrore che riguarda questo tema che sto discutendo del rapporto di una visione dell'infanzia di una visione appunto di qualcosa di puro di qualcosa di protetto di qualcosa di immaginario questo sicuramente ci metto io è qualcosa che lo distrugge nel senso che quando ci sono gli ospiti che a me sanno proprio appunto degli enormi borghesi del reale che vengono nelle fauci per divorare il bambino che poi questo vuol dire tra l'altro che i mostri non vivono solo alle fauci ma soprattutto vivono nel mondo cioè il mondo ha i clienti cioè nel senso i clienti sono il mondo i clienti si chiamano gli ospiti o clienti a me quella scena mi sa in qualche modo di perché c'è un orrore c'è un horror in questo gioco è l'orrore più forte nella prospettiva anche della torre di torre di va bene nel senso che è l'immagine del bambino divorato dal mondo dall'adulto che paga e divora le sue carni in qualche modo è proprio diciamo lo scontro secondo me di torre di va bene in quel momento cioè questo bambino che tu guidi che in qualche modo deve fuggire e questi in qualche modo che vengono per divorare la prigione dei bambini è la cosa più cruda che esista cioè per quanto è l'orrore diciamo più crudo perché non è un orrore di tipo fisico un orrore di tipo come tipo la purezza assediata dalla crudeltà della realtà attorno a sé che addirittura ha creato una sorta di prigione di struttura dove si torturano i bambini quindi è veramente un orrore diverso poi si potrebbe fare anche una bella analisi su ogni pg nel senso che ci abbiamo abbiamo detto il custode il primo con le braccia lunghe e le gambe corte il due cuochi con la faccia di altri tizi come maschera gli ospiti che sono una specie di sciame e la signora il custode è il mio preferito in assoluto a livello di immaginario indubbiamente il mio preferito è il custode e cieco strana mascella con quel cappello elegante ma creepy da morire cioè con queste braccia lunghissime solitario che vive nel nulla cieco che arrangia lui fa roba mentre gli altri fanno cose macabre è vero lui non fa niente di macabro mette a posto mette a posto e poi si prende i bambini li alleva in realtà perché lui gira dove ci stanno i bambini che dormono sembra veramente una sorta odome del posto esatto per cui lui fa tutto ma prende anche alleva i bambini che poi probabilmente li farà fuori in una qualche maniera oppure le cose li appende e li manda in macelleria dove iniziano ad essere cruenti lui non è cruento lui si occupa però la cosa interessante è che il suo occupare è esattamente il contrario di un occuparsi cioè quando uno si occupa in genere tiene cura il punto è che è un tener cura totalmente rovesciato che dici non prenderti cura di me non ti preoccupare cioè però è un tener cura è la sua quasi ossessione nel senso lì va prendilo vedi che il sistema come va e si occupa cioè è questo mantenere quasi il focolare in un'ottica totalmente rovesciata e soprattutto questo esser cieco ti dà ancora di più l'idea dell'abitudine non so per quale motivo so che un salto strano infatti c'è città abitudine però c'è città e quindi si è tatto e quindi contatto e quindi ritorna cioè c'è un'idea di ambientare e di ambiente proprio perché c'è l'ambiente è vissuto in un'altra maniera e ovunque diciamo il pactotum perché proprio il tutto anche dal punto di vista dell'ambiente non è che solo quando vede sa dov'è e c'è un'oggettualità lui vive di quel mondo fatto di cianfrusaglie perché quegli oggetti e anche il fatto che ci abbia mille bamboline mille cose giocare c'è il custode è un nemico che tra i vari nemici in qualche modo nonostante possa sembrare molto forte questa chiave di lettura nel senso eccessiva però potrei dire che ha una sfumatura in certi momenti di umanità nel senso che voi vedete la sua stanza vedete il suo letto e vedete praticamente che lui come diceva il granpuno con questo prendersi cura soprattutto nella stanza dei giocattoli che in qualche modo e io supponevo mentre giocavamo sono stati sequestrati i bambini non si sa però lui comunque li mette in ordine e perché fa quella cosa comunque ha questo lato e dall'altra parte per esempio è distratto dalla tv che però al di là del fatto della cosa tecnica di distrarre nel gioco per andare avanti quella tv è lì perché tendenzialmente noi possiamo immaginare che è lì per il custode così come i cuochi hanno la loro stanza quindi si vede questo factotum che pure si annoia magari nel tempo libero si guarda la tv e pulisce le bambole infatti per lui non c'è differenza tra tempo libero e non tempo libero nel senso è immerso nella sua azione è sempre nel suo micromondo è sempre là che vaga un luogo di oggetti che è quel bello di perdersi anche in casa nel senso quello che intendo in cui gli oggetti sono magici quasi a priori mentre nella cucina gli oggetti hanno una funzione lì gli oggetti non hanno nessuna funzione nel senso non trovi mai l'oggetto che dici ah vedo quello è un coltello lui sta usando gli oggetti in una qualche maniera nessuno ti ha chiesto che ormai ci sono così tanti libri con il custode cieco sì no ma perché la libreria della signora i libri poi diciamo poi dormeranno tra l'altro sono molto presenti anche dopo perché però no la cosa è perché il custode cieco lui c'ha tanti libri effettivamente però perché la cosa secondo me interessante nel custode è che lui è custode è che lui esatto lui custodendo essendo il custode lui custodisce quindi lui non deve usare oggetti li deve avere e li deve custodire mentre il cuoco usa oggetti e tu vedi cioè si vede che lui usa gli oggetti con una direzione il custode ne ha e quegli oggetti perdono la loro funzione per certi versi perché sono lì per un puro essere lì essere custoditi e acquisiscono una loro magia ed è perciò la cosa più bella anche a livello di ambienti per me il custode perché attraversi non dei luoghi che diceva stanno le cucine e faccio le cucine attraverso il pianoforte le scale cioè sono tutti degli ambienti in cui gli oggetti perdono la loro funzione per cui stanno in un contesto funzionale stanno in un contesto di custode la stanza degli orologi cioè sono tutti là in quanto puri oggetti mostrati nella loro vita c'è una magia degli oggetti si capisce secondo me io la lettura del custode la trovo molto molto particolare non so se è una fan la teori però alcuni dicono per esempio cioè c'erano delle cose su youtube che per esempio il custode pure sia vittima a suo modo sia perché c'è questa è una cosa che te l'ho detto pure io io la sento così perché alcuni dicono che loro in qualche modo su questa lettura della corruzione che loro in qualche modo ho la sensazione ma dico che è over thinking metto gli zoccoletti avanti che loro sono divenuti quello sono divenute quelle funzioni ho questa sensazione io può essere sicuramente però non si può dire non si può trarre esattamente però il custode intanto ci sta la prima persona che incontriamo è l'uomo lunghissimo impiccato prima domanda chi è quell'uomo lunghissimo impiccato vai a sapere molto tipo slenderman però la cosa interessante secondo me del custode alcuni hanno fatto notare per esempio come a un certo punto si vedono dei pantaloni appesi i pantaloni sono lunghi però non sono pantaloni corti allora uno può supporre che avesse le gambe lunghe oppure di quei pantaloni potrebbe essere uno stadio cioè nella mia lettura dell'adulta formazione perché le gambe corte alcuni in qualche modo arrivano là e il posto ha un effetto su di loro e li deforma ma la deformazione non è una deformazione mostruosa fino a se stessa è una deformazione che esprime quanto le fauci sono diventate parte di te e tu parte delle fauci quindi il custode potrebbe essere in qualche modo una sorta di evoluzione dell'uomo lungo impiccato però secondo me intanto volevo farti una domanda che in realtà non è per niente profonda è proprio tecnica cioè volevo sapere una cosa che si è sempre discussa quando è finita Little Nightmare 1 e stavo per uscire il 2 è che c'è dicono tutti che c'è in realtà già nell'1 un legame con il 2 perché c'è una scena in una televisione ma io non ho mai capito dove cazzo è me la spieghi? nella dlc nella dlc allora ragazzi quando giocheremo alla dlc in realtà quando era finito l'internet per 1 c'era già un annuncio del 2 quindi così semplicemente una domanda tecnica allora la cosa è che l'annuncio della cosa della tv lo trovo in un certo punto nella dlc nella dlc c'è un annuncio che non è un annuncio del 2 è una scena è un qualche cosa che si vede che poi ritroveremo nel 2 perché tendenzialmente noi del 2 veramente non sappiamo nulla non che in realtà anche che non è con la televisione non che però non voglio fare spoiler perché questa è una cosa no la cosa secondo me io non so niente del 2 quindi non so se è uno non si possono considerare spoiler delle ipotesi però io io penso che io penso che le fauci sento che sono esaurite cioè mi deluderebbe se tornano nelle fauci secondo me il trailer non sanno nelle fauci il trailer magari potete possiamo vederlo o è spoiler vedere vedere un trailer vediamoci il trailer il trailer è molto bello però per esempio quello che ritorna secondo me è l'uomo lungo secondo me il trailer dà l'idea che il little nightmare prosegua oltre le fauci siccome abbiamo parlato dei clienti degli ospiti dovrebbe essere il 2 un'apertura al mondo che c'è fuori le fauci no? cioè secondo me questa è un'interpretazione fateci sapere cosa cosa vi ha lasciato a voi il gioco cosa ne pensate ce ne sono diversi di trailer un po' più breve metterei allora quello da 1 e 11 giustamente se vuoi anche chill in realtà la reaction è giusta con la cornice mind no no ecco qua ma questa è chrome invece dovessi mettere chill anche chill vabbè ma adesso non è una questione rinuziosa dai facciamo così ok vai vediamo il trailer del 2 ragazzi vediamo se come lo interpretereste voi vediamo se vediamo se vediamo se vediamo se io quello solamente che volevo dire ma mi sembra questo non è il trailer quello che ho sempre visto io questo qua non l'ho mai visto no questo è nuovo infatti ci sono delle cose che un attimino mi hanno messo dei dubbi ma non ne parlerò no volevo dire quello che volevo dire è che secondo me per quelli che hanno giocato di Little Nightmare 1 si suppone una delle cose che appena uscì il trailer si supponeva è che finalmente fosse fuori dalle fauci cioè la sensazione che ho io ma questo non è spoiler è il trailer raga è quindi inutile che mi scrivete ah spoilerone però secondo me è come se ci fosse una sorta di città è come se si si potrebbe finalmente scoprire la verità su questo cazzo di mondo beh il primo per Little Nightmare per esempio che va quello sul cellulare che però mi sembra comunque sia uscito dopo Little Nightmare 1 si parte da terra e sei in una villa spoilerone si cioè io sono contento di magari le risposte che ora non abbiamo per chi vuole la loro esatto io le devo fare un attimo una cosa chiudere fare un attimo una riflessione generale sui personaggi e poi fare la scheda finale dei voti perché stava molto rapida io volevo parlare ci stanno i due cuochi spoilerone ma di che è ma il trailer non è spoiler cioè non lo so però in realtà è spoilerone io sono d'accordo cioè questa cosa il trailer comunque l'altro trailer era molto meno siete assurdi tutti quanti tu la comioni l'altro trailer che avevo visto non era perché il launch trailer non è stato così io io non capirò mai nella mia vita in generale il concetto di spoiler non l'ho mai capito non lo capirò mai cioè veramente non capisco perché se tu non sei legato l'emozione della prima volta no appunto tu cioè non capisco cioè per me il trailer è una cosa per esempio che si crea è un'anticipazione se è stato creato per quello alle persone che tipo quando c'era la quinta di vikings e parlavi del trailer di vikings sei anche in reale dei miei amici dicevano tu non mi dovevi dire questo ma sei il trailer c'è prodotto irreale a prud e dall'azienda c'è una maniacalità sì però per esempio qua già ho delle idee è perché uno si fa delle idee quindi ma ti devi fare delle idee perché sennò come si crea l'attesa tipo no non voglio sapere nulla e poi mi butto cioè è quello il bello di fare delle ipotesi di avere delle cose no per me no il bello è la totale scoperta è come dire ah sì ti porto in un posto mai visto davvero è com'è così 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 poi arrivi e la sorpresa qual è mezzo sai tutto no perché sennò non ti godi tutta quella quell'atmosfera di vedere ah io pensavo così pensavo cosa parli con i fan parli con le cose di confronti tipo quando sta per uscire una cosa poi arriva quella è la verità ma è il godere dell'ipotizzare il godere della la curiosità per me non c'è un ipotizzare prima tipo quando io vedevo Lost e tipo finiva Lost non è che dicevo finiva una stagione diceva adesso non ne parliamo più era tipo il fomento tipo ma potrebbe essere questo no secondo me queste erano tutte false ma era bello ipotizzare ipotizzare da quello che hai non da quello che avrai cioè non è che ho detto l'internet world è inventato una città ho detto io sto ipotizzando che finalmente saprò la cosa sì 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 quello che dico a me per esempio mi ha spoilerato delle cose questo video che non era tanto gli ambienti perché l'altro trailer per esempio era carino mi suggeriva meno ma questo mi ha fatto vedere troppa roba cioè l'altro vedevi due ambienti più o meno qua hanno visti tipo botto che tipo spezzi cioè un po' troppa roba mi stai a far vedere quindi anche lì è interessante però la questione secondo me è che la prima volta perciò lo spoiler a me non piace perché la prima volta te la tolgono nel senso se ho visto una cosa ok quella è la prima volta poi la posso rivedere 58 volte e mi va benissimo però lo sai la prima volta è una sola voce non sapere è una sola volta cioè la condizione sarà che tu per esempio dici io ho cattiva memoria per me di giocare a Little Nightmare io se gioco a Little Nightmare 1 una volta ma magari appunto ma magari era la tua cosa rispetto alla tua memoria io ho giocato a Little Nightmare 1 un anno e qualcosa fa e me lo ricordo perfettamente difatti mi ricordavo tutto per cui magari una questione è la comunque io voglio parlare l'analisi dei personaggi con questa idea che stai avendo e allora perché ci stanno i due interessanti per esempio come sono diversi c'è un tipo una fame una respirazione la cosa è il respiro per esempio mentre il custode è silenzioso tranne le scoregge 50 volte il primo prima volta oh mio dio uno dei film sarà il primo film probabilmente prodotto dalla Torre di Va Bene 50 volte il prima volta che poi sembra tipo lo chiamavano il primo finalmente potrei chiamare Adam Sandler e di sono l'unico qui mi piace mi piace mi piace mi interessavano soprattutto da passare dagli archetipi del solitario allo sciame degli ospiti gli ospiti sono uno sciame di pura famelicità che però è bello perché vedi tutto arredato uno va sempre di più acquisendo senso e poi per ritornare di nuovo in un privé cioè fa uno strano luogo perché da un lato gli oggetti dominano tutto per poi andare verso sempre più un'umanificazione nel senso di animificazione così come per te il custode è tipo top per me come dicevo giocando per me il miglior punto di Little Nightmare è la stanza degli ospiti perché come abbiamo detto in trasmissione dopo il custode rispetto all'immaginario infantile l'abbiamo già tirato fuori però io amo quel punto perché vedo da punto di vista di paura atavica dei bambini il mito dell'orco che ho tirato fuori prima dell'essere divorato nel bambino e lì come dicevamo c'è un po' il vizio della gola un po' l'immaginario che c'è anche in glattoni un po' questo mito dell'orco un po' il bambino che prima passa tra i piatti e poi praticamente come dicevi tu lo sciame cioè questo effetto di valanga direi anche di corpi che rotolano su se stessi nella totale in un movimento spasmodico di violenza pura per mangiare il bambino che fugge quindi ci rivedo molto il mito dell'orco certo quello sicuro ma quello interessante no stiamo commentando il gioco adesso per me la cosa interessante ciao Beccolo ho pure giocato recentemente sì non so se l'ha finito poi nel frattempo hai finito Little Nightmare? la cosa interessante per dire sono gli orrori nel senso l'essere mangiato l'essere cucinato perché poi c'è la cosa anche dell'essere preso e tagliato e squartato degli altri due e il custode secondo me svela anche quello no 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 cioè il custode a quella cosa secondo me fantastica è il mostro secondo me più ancestrale per certi versi perché proprio il suo esser cieco che vuol dire che io però l'essere cieco significa che io posso stare anche alla luce il mio problema non è la luce il mio problema sono bloccato col ciccione quale? penso che intenda il cuoco il cuoco eh stare al il problema non è la luce ma il problema non è la luce ah no devi andare al piano di sopra la cosa qual è secondo me interessante lì? che il custode essendo cieco lui non vede in maniera particolare un po' come quando parlavamo dei giocattoli cioè la questione dei soldatini che coprono un'area lui ha un meglio ancora quei tremors cioè lui avendo praticamente una percezione tellurica in realtà una percezione di suono l'horror qual è? è che la tua presenza è pericolosa il tuo cuore cioè il tuo mentre la vista se non mi faccio vedere c'è una maniera di non farsi vedere il non farsi sentire fino a una certa nel senso sì ma il fatto che aumenti il cuore il mio calore il mio respirare mi sentono ovunque io sia ovunque il custode sia la mia pura presenza è pericolosa per me stessa questo mio pura sentire di essere esposto cioè questa esposizione proprio questo pericolo di io mi sento fragile poi sono sempre vulnerabile sono vulnerabile poi che sono esposto da me stesso e io stesso mi spoilero cioè mi espongo questo è molto bello secondo me quello lo senti molto ovviamente qui è molto bello ed è molto bello in generale nei survival cioè devi tenerti stretta la tua stessa vita occultare la tua presenza occultare la tua presenza che però la questione interessante è che mentre la vista è occultabile dallo spettro visivo il suono lo è fino a una certa certo perché se una creatura vede benissimo la creatura che vede benissimo vede comunque nel suo spettro visivo la creatura che sente benissimo quello sente molto meglio di quello che vede meglio non so come dirlo cioè quello sente peggio cioè è più grave il custode che sente tutto è terribile per cui senti il cuore e il cuore ti senti con mio dio moglie passo accanto e mi sente il cuore battere e mi distrugge e ricorda un po' quella cosa del mettere il piede fuori dal lenzuolo mentre dormi che qualcuno ti acchiappa cioè quell'uscire da sotto tant'è che lo farà spesso tant'è che il boss finale pure si svilupperà con le due mani che ti cercano cioè è il puro braccio cioè il puro essere afferrati è il tentacolo nel senso il tentacolo quella cosa tentacolare non è tipo un arto quando si dice il tentacolo non si intende in biologia tipo l'arto del polpo per esempio in realtà è un po' riduttivo perché è fatto è pieno di sensibilità che non sono quelle del nostro braccio ci sono mucose ci sono tipi di percezioni nel tentacolo che semplicemente il tastando l'oro è come se vedessero sentissero gustassero quindi le braccia del custode sono tutta l'essenza del custode mi piace la cosa del tentacolo in realtà in questa cosa quindi per me è perciò lui il mio preferito poi io concordo con te sugli ospiti che sono fichissimi li trovo bellissimi anche i colori lì per esempio da uno che è stato bombardato sempre con un buio lì c'è la luce per la prima volta quello è figo e forse è più brutto vedere cioè era meglio stare al buio cioè quando vedi i colori che vedi e le cose come mangiano è anche più orripilante quando c'è la luce poi secondo me è interessante molto diciamo dal punto di vista di iconografia di immaginario la questione dello specchio perché la questione dello specchio è un po' una questione sia secondo me è molto bella l'avevamo già tirato fuori però secondo me è interessante l'idea di far specchiare in uno specchio rotto un personaggio che potrebbe anche essere senza faccia come i cuochi come le cose anche lei potrebbe essere senza una effettiva faccia di pura oscurità però comunque a me la scena dello specchio mi sa di una memoria di quello che fu cioè una memoria i gesti comunque della della tua elettatura della bellezza della vanità però in uno specchio rotto perché in realtà è solo il gesto che gira a vuoto però non potresti accettare perché non hai più un voto infatti la questione del riflesso perché la questione del riflesso oltre al rimando il riflesso che sempre rimanda a però c'è la questione anche della luce nel senso la riflessione della luce che ritorna va come ritorna esattamente il riflettere la luce lo specchio rotto è esattamente quella impossibilità di dover andare cioè è come molti film horror c'è questa cosa cioè lei tipo è come se si avesse spaccato tutti gli specchi perché non si vuole rispecchiare no? e allora tipo tu in qualche modo riesci a riuscire nella tua avventura dicendo guardati cioè tipo fai una sorta di operazione di cioè è un tipo di vittoria molto molto più fine del fare KO tra l'altro il fatto è che quando le mostra lo specchio lo specchio diventa luminoso cioè lo specchio irradia luce quindi a suo modo è come se la cecasse o ci fosse un modo quello è interessante secondo me tra l'altro non sappiamo neanche gli ospiti che fine fanno nel senso al di là del fatto di DCX eccetera ma gli ospiti non è detto che cioè nel meccanismo delle fauci gli ospiti poi se ne vanno contenti perché hanno pagato avrà una fine quel mangiare o verranno mangiati essi stessi è interessante è interessante vedere come continua poi il vertice quanti anni ha la signora da quanto è che stessi sì sì sembra tutto senza come avviato la start up cioè come funziona quindi io spero di trovare queste risposte nel 2 o delle cose più interessanti perché già appunto poi riparleremo anche di veri little nightmare che in realtà potremmo anche un giorno giocare perché è molto corto in realtà detto ciò io volevo passare a fare per una chiusura una scheda per quanto sia molto banale però per dare un po' proprio soltanto i tecnici ci rinfreschi a me e ai vabbè lignes le categorie di va bene allora le categorie di va bene nel totale sono diciamo 4 per quanto 2 di esse si sdoppiano una meno però tendenzialmente l'idea è quella la prima possiamo definirla grafica o grafiche nel senso che le grafiche intendiamo sia la questione grafica di realizzazione grafica quindi di come è se è fatto bene se è pixelato non se è pixelato apposta se si sgrana se eccetera 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 e l'altra la questione grafica nel senso di disegno nel senso di graphic design è proprio la questione di come è disegnato e l'animazione e l'animazione e quindi la fluidità la cam anche lì per me incide in realtà io quella la metterò sono quattro sdoppiate scusami perché io adesso ho una è difficilissimo vedete come noi cioè ogni cosa articoliamo un voto quindi un conto sono le categorie però abbiamo precisato che ogni gioco avrà un giudizio non per forza uguale agli altri perché cerchiamo di argomentare ogni volta il nostro pensiero infatti io direi adesso le quattro categorie e quattro categorie che si sdoppiano vicenda secondo me cioè grafica intendiamo il disegno sia come sono disegnate le creature come sono disegnati i mondi come è disegnato e sia la qualità di quel disegno cioè la qualità grafica di quella tecnica proprio poi uguale con le musiche la questione delle musiche e la colonna sonora nonché gli effetti sonori anche all'interno per cui il verso per esempio del custode il verso del respirare il verso del cuoco no ma quel verso di petto cioè tutte quelle cose interessanti secondo me la questione la tosse cioè l'attenzione agli effetti sonori poi la storia che io qua anche sdoppierei per dare una coerenza di tutta questa cosa storia e narrazione cioè storia qual è la storia quindi la lore del mondo e quindi l'ambientazione la storia che il percorso che deve fare il personaggio nonché la narrazione cioè come è narrata la regia di come ti racconto questa storia cioè di come le cam possono essere fatti del su seguirsi di quali ambienti si capisce cosa voglio dire quindi non solo la storia di per sé ma il come ti racconto questa storia per cui lo metterei anche lì sotto una stessa categoria però hanno due pesi diversi quindi a volte un gioco con una storia fantastica con una narrazione minore oppure una narrazione bellissima di una storia banalissima ok per dire un gioco che è così e che gris gris storia abbastanza banale ah le avevi giocato si storia abbastanza banale narrazione stellare cioè con il gioco c'è una narrazione stellare il gioco non è niente dici guarda che messaggio mai sentito però invece la narrazione è talmente bella che c'è narrazione top di fatti dice stai colmo di quel gioco e l'or io metterei grafica immaginario è per appuntarmele ah ok l'or e l'ultima è la questione del gameplay cioè che abbiamo diviso in esatto musica immaginario musica effetti sonori l'or narrazione e l'ultima è non so come metterlo meccaniche gameplay cosa intendiamo con meccaniche gameplay meccaniche proprio direttamente come si può muovere il personaggio se ci sono dei lag se ci sono degli errori cioè se ci sta una buona giocabilità oppure di stressa io per esempio oggi ho sentito una giocabilità molto più scomoda però mi rendo conto che c'è un problema che non è nato per questo questo controller nel senso che quando ho giocato su switch non ho avuto alcun millesimo di problema qui ho avuto più difficoltà ma penso che sia il fatto che stiamo usando un controller della ps sul computer e sta avendo diverso non è progettato per quello insomma e quindi l'altra invece il gameplay quella è la pura meccanica quindi il come come sono i tasti queste cose quasi sono scomode ci sono dei giochi per esempio in cui tu devi uno che per esempio è riadattato molto male amnesia bellissimo gioco che però per esempio per prendere gli oggetti devi fare r1 ma perché cioè non per prenderli tipo qua che devi fare r2 li può trasportare le cose più utili sono per i tasti del cazzo che ma perché decisione c'è quindi sono dinamiche molto storte considerando che amnesia richiamo molto lo stile dei punti e cliccare quindi della sala non è un po strano però è l'altra il gameplay con gameplay intendiamo il come si usano quei tasti quindi la strategia di gioco cioè come sono se ci sono puzzle se ci sono combattimenti quanto è articolata la questione del gioco può essere anche un non solo salto saltare un capolavoro per dire da questo punto di vista vostro super mario storico senso fino a proprio contrario salti eppure con quei salti quanto non ti annoi a me per cui a livello di meccanica e quello è però molto per esempio che mi ha fatto vedere duori nel senso che c'è una dinamica la meccanica so sembra apparentemente una cagata ma diventa difficilissimo per è difficilissimo e ori per dire che è un gioco secondo me fantastico dal punto di vista di gameplay perché il gameplay quando noi intendiamo gameplay intendiamo anche il mondo nel senso che ori può fare dei salti fantastici ma se il mondo non avesse quella forma non potrebbe fare quei salti fantastici quindi prevede che la collaborazione di tutto il gioco proprio di come il gioco sviluppa il suo stesso gioco questa è l'idea del gameplay non so se si capisce l'idea cioè diciamo ragazzi che grossomodo tra grafica musica lore e gameplay voglio dire che ogni volta ci sono molte sfumature pure ho cercato di far vedere per ognuna quantomeno due sfumature ce ne possono essere ancora altre però noi ci siamo dati la cosa che per ogni gioco ci siamo resi conto che è meglio tipo sviluppare cioè dire a voce perché ci sono criteri molto diversi cioè non vorremmo comunque incappare comunque il voto purtroppo è questo cioè è una sorta di compromesso per paragonare le cose però non vorremmo per esempio magari è giusto dare a un determinato super mario tipo che cazzo ne ho super mario galaxy tu dici io per me la perfezione gli do 10 però direttamente se tu per esempio a bloodborne dai 10 bisogna ci si può intendere con altre persone però bisogna spiegare cioè ogni voto ogni volta ogni gioco ha una bellezza propria soprattutto nei grandi giochi e bisogna spiegare in qualche modo perché quella bellezza lì quindi per esempio non ci metteremo a dare che ne so il massimo di una grafica a un gioco che ne so 2,5D fare finta che è un gioco tipo all'apice del realismo tipo che ne so che cazzo ne so Battlefield cioè oppure Red Dead Redemption allora dice la grafica è perfetta però sono veramente due cose diverse quindi ogni volta argomenteremo quindi le categorie sono comunque solo dei compromessi io ho scritto le ho rimesse qua le categorie in caso voleste averle per cui anche qui abbiamo cercato per facilità per non dare mille voti perché potremmo fare migliari e prendere e fare mille categorie il camp 1 su gameplay è molto complesso come ragione lui su gameplay io su grafiche ci sono per me molte sotto categorie quindi sono compromessi per dire che ci sono delle logiche per cui io posso dare appunto diamo voti su 5 diamo voti su spade usiamo le spade su 5 spade possiamo dare appunto grafico immaginario magari l'immaginario è da 5 la grafica è da 0 lì uno fa un compromesso poi io le separerei però poi sul voto finale cerchiamo di essere un attimo più assuntivi perché il voto lascia il tempo che trova è più per facilità è più per orientamento ma in realtà se uno vuole fare qualche cosa in realtà se ti dovrebbe ascoltare giustamente la recensione c'è da parlarne perché è complicato sicuramente io adesso come lui dice stagolm io do 10 a tutto su 5 io sono d'accordissimo sicuramente grafica immaginario io dò 5 sia la grafica che all'immaginario cioè sia nelle due cose già del 5 a tutte e due e mettere quello musica effetti sonori 5 5 per me la lore è fantastica perché super originale è molto particolare e la narrazione è ancora ancora più fantastica cioè la lore vedere come è raccontato che cos'è sta storia allora io darei il massimo a tutto perché perché aspetta però dico faccio il cagazzi minimo però non lo faccio però dico se io allora per me sarebbe cioè voi do il massimo a tutto perché deve risultare come totale che per me Little Nightmare è assolutamente 10 perché è tipo un qualcosa di talmente unico e cosa che indimenticabile è unico però se diciamo perché voglio che risulti 10 totale potrei dire che su meccaniche magari potrei anche dare tipo un 4,9 o un 4,8 nel senso che secondo me però sto dicendo che il dlc per esempio già ha meccaniche più complesse però secondo me magari che ne so si sarebbe potuto con pochissimo creare qualcosina di carino in più nel senso che magari per esempio l'accendino è figo no e accendi le lampade oppure ti faccio questa critica che però è veramente 0,01 però per esempio le statuine sono carine le rompi eccetera però potevano avere un senso cioè lo fai solo per la gloria le lanterne potevano avere più senso io i nomini cioè nel senso è un'impercettibile cosa che se avessero messo qualche piccola cosa di lampade in più qualche piccola cosa di in più di meccaniche però è proprio una cosa cioè che comunque deve risultare over all per me non era necessario deve risultare 10 però forse tra questi per me meccaniche era l'unico su cui avrei potuto aggiungere qualcosa di altro per me per esempio non era necessario però per dire un videogioco che anche quello è da 5 su 5 però è un 5 su 5 secondo me inferiore rispetto al 5 su 5 di questo che è Inside che giocheremo perché è meraviglioso anche quello è un capolavoro Inside per esempio secondo me ha un gameplay migliore nel senso che Inside ha meno tasti ma la varietà di roba che fai e che sei costretto a fare con quei tasti è molto maggiore dici guardate che meccaniche originali che hanno tirato fuori anche secondo me il DLC è lo stesso gioco però letteralmente la meccanica è 5 nel senso che il DLC è più breve ma sono ancora un pochino più varietà lo vedrete sono d'accordo quindi 5 spade su 5 per torrivere bene perché sia bufu capolavoro raccomandatissimo 5 stelle su 5 capolavoro rigiocarlo mi ha dato ancora l'idea del capolavoro non stanca uno lo rigiocherebbe per sentire l'atmosfere cioè è veramente una piccola opera d'arte secondo me veramente con Little Nightmare c'è quella piccola confine in cui ovviamente l'arte grafica e l'arte videoludica è un'arte per me perché giustamente per lui è giustamente per torri di va bene è un'arte ragion per cui è un'arte perché è un immaginario molto forte ragion per cui continuiamo a portare il gaming come giorno fisso però questo è proprio la testimonianza di come un videogioco possa essere una perla veramente di arte secondo me è un fantastico assolutamente fateci sapere diciamo anche voi che ne pensate tanto Little Nightmare rimane come zona quindi ci sarà il DLC ci sarà il 2 quindi condividete con noi le vostre impressioni vi terremo al corrente sui nostri spostamenti seguiteci su Instagram e su YouTube anche iscrivetevi potrete avere le nostre news specialmente su Instagram avvisiamo su Instagram per quelli che ci seguono sempre quando ci sono dei problemi come oggi avete subito la storia cioè per ora ragioniamo così quando avremo magari il canale Telegram quando riusciremo sarà una prepariamo qualcosa sono tante cose in ballo ragazzi stiamo cercando di studiare il sistema delle ricompense a poco a poco stiamo cercando di snubbarci ricordo che domenica c'è una puntata che praticamente completerà la serie che abbiamo iniziato domenica scorsa sul tema dei giocattoli quindi una puntata proprio official importantissima per noi diciamo inizierà alle 7 la puntata fino alle 10 e oltre 10 e mezza eccetera quindi seguiteci nell'altro studio poi tu vuoi ricordare qualcosa? io voglio ricordare una cosa no io voglio ricordare di mettere i follow delle cose ma in realtà no che vi vogliamo bene grazie di averci seguito grazie dei follow allora io in modalità pistolero oggi in omaggio del far west voglio dire ricordatevi che la torre vi fa bang wow melafisico comunque melafisico che abbiamo finito il gioco di nuovo yeah comunque melafisico che abbiamo fatto melafisico due volte e infatti l'abbiamo fatto tre volte no? no 1,2,3 buon dì un saluto di fogna a tutti in questa nuova puntata va bene va bene grazie a tutti la torre vi fa bang a domenica a domenica a domenica grazie a tutti a tu